ciao 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 amigos ciao ragazzi eccoci ah io stavo provando si tre macchine e soldi una macchina una macchina no pochi soldi cavron di gioco ciao amici ciao amici di twitch amici amici amiche di twitch ciao 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 allora ho comprato un po' di automobili ho comprato un po' di automobili amici miei allora io vorrei provare questa qua mamma ragazzi guardate guardate che roba guardate che roba allora ciao amici di twitch ciao soul ah ah è grandissimo ciao ciao mitico allora vediamo un attimo soul tv grande ragazzi toyota comprata e lo so lo so che ah 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 mi sono iscritto prima magari settimana prossima non mi ricordo ma fino adesso fino adesso me lo ricordavo allora jaguar xjr r88 questa mazza ciao amici di twitch adesso tra un attimo mettiamo il monitor il video è un attimo e niente devo sistemare un attimo la telecamera che è passato il gatto e me l'ha sminchiata questa a220 race la shelby la r8 gordini la r92 cp92 e la 787 b91 della mazza allora ciao amici di twitch un attimino che poi facciamo andare anche il video vi voglio voglio farmare voglio farmare eh vi faccio un po' di oh macchine nuove bellissima questa onda onda stramitica allora vediamo one second questa onda stramitica voi dite di comprarla ragazzi ok ecco qui amici purtroppo il gatto ciao b max mitico ciao ciao ragazzi ciao ragazzo allora purtroppo è passato il gatto è passato il gatto e ha sminchiato la telecamera perchè il gatto si mette lì nell'angolino io lo sgrido perchè non deve stare lì e allora mi ha spostato sto aspettando mia moglie che me l'ha sposta quindi per adesso vabbè rimaniamo così che un po' mi vedo un po' no però si vede qualcosa beh innanzitutto la compriamo la compriamo perchè una onda s800 del 66 sinceramente mi mancava mi mancava parecchio ecco vuoi utilizzarla? no ho comprato questa abart che proveremo dopo ragazzi l'ho comprata per il mio amico dissociatore Pierpaolo e comunque è fighissimo ciao Sharder mitico ciao amici ciao amici ciao amici ciao amici allora adesso un vedo non vedo bravo Wimax è così un po' a metà vedi? un po' così ciao ragazzi amici di Twitch si vede un occhio e un pezzo di naso allora ragazzi oggi la giornata è lunga esatto te lo stavo dicendo adesso mitico Sharder voglio fare un pezzo in offline sto scrivendo anche il mitico Maurizio e dopo andiamo online ok Sharder se tu stai giocando intanto che mi segui una cosa o un'altra oppure segui le mega live fighissime di Marco Drums Games Channel io ti ringrazio e caspita ragazzi ma se le fanno pagare le macchine e poi giochiamo online va bene Sharder c'è anche il mitico Kevin vediamo se c'è anche Phil però dopo ho voluto partire la live alle 2 giusto per fare un bel po' di gare perché ho comprato un sacco di macchine ok adesso sentiamo se c'è il mitico Phil ciao amigos ok ho scritto anche a Phil eh Sharder così la compriamo questa NSX ragazzi la compriamo tanto non sono soldi vostri io ho farmato fino alle 2 di notte ragazzi ho 17 milioni allora amici e amiche no ho schiacciato ancora ciao Bregali ciao amore mio no ho schiacciato ancora scusate ragazzi sto continuando a schiacciare X fermati dito acquistiamola ma si tanto i soldi sono di Marco Drums grande Phil eccolo qui ti ho scritto grande va bene va bene va bene dai allora commenti ci fai da commentatore da casa ecco hai visto questa NSX Type R del 92 che spettacolo allora io le ho comprate tutte 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 guarda Phil la 500 Abarth grande Sharder grande Phil grande Bregali allora dopo ho comprato queste qui ragazzi guarda vi faccio vedere e vi faccio vedere anche in serata o domani che cosa voglio comprare buona vigilia di Pasqua a tutti ragazzi intanto è vero è vero è vero guardate che cosa voglio comprare e avete capito bene ragazzi avete capito bene io voglio questa Ferrari io la voglio io la voglio e la voglio comprare non c'ho i soldi ma manca poco manca poco manca poco manca poco manca poco manca pochissimo io voglio questa Ferrari la 250 GTO ragazzi io voglio tutte le Ferrari ormai mi sono messo nella testa che le voglio tutte le voglio comprare tutte quindi farmiamo giochiamo giochiamo farmiamo giochiamo allora io volevo fare una cosa molto intelligente stavolta volevo provare come non mi aiuti più a farmare amore senza di te come facciamo a avere tutti questi soldi tra un po' farò farmare anche a mia mamma gli dovrò dire darmi una mano a farmare partita relax 17 parto per la Val d'Avossa oh grande grande Phil vai a godertela eh allora contando bella lì bella lì Phil una bella vigilia eh di allora io voglio provare una cosa perché poi alla fine eh lo sommo intermedie ai 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 ho sbagliato ho sbagliato vediamo un attimo no in realtà non è che ho sbagliato ma ci vuole un sacco di soldi per fare le cose medie in realtà bisognerà usare le gomme dure allora io volevo provare a fare la famosissima pista grandi ragazzi allora la Tokyo Expressway allora impostazioni dell'auto se mettiamo le intermedie che cosa succede quanto mi è andato giù 843 700 600 allora stavamo provando eh sì ma qui è e quant'è che è 600 600 perché ti dicevo Phil che no in realtà non ti stavo dicendo niente allora quant'è che bisogna arrivare porca miseria no il problema è ah no infatti ho sbagliato non dovevo mettere questo dovevo mettere quelle da pioggia quali sono quelle da pioggia sì no intermedie perché piove perché piove Phil piove e 750 tra l'altro vedi che mi sale anche allora intermedie dure allora io ho provato io e l'amico Kevin a fare così e il problema non è solo quello il problema è che bisogna depotenziare anche le marce a sto punto io lo uso solo per 4 giri con le intermedie poi metti le dure ok credo perché allora questa pista io la stavo facendo prima con allora innanzitutto facciamo una cosa te lo dico io è questa no ho sbagliato ho sbagliato mi ricorda mi ricorda se le potenze con le intermedie dopo non arrivo a usare le dure si 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 con le ragioni il problema eh si è il gatto è passato prima il gatto quando ti ho detto si allora no aspetta ho sbagliato perché io voglio provare una cosa questo ciao amici di twitch benvenuti ragazzi andiamo a farci una prova perché perché non sto qui diventare matto a depotenziare questo strattissimo se poi dopo diventa ingestibile ecco che mi ha imbrancadenta allora perché sta pista sarebbe per far mare ok ah che bravo avete visto che mi hanno brancato dentro eh toccala oh allora belli ma sono pazzi questi qua sono matti ma io vi dico che con la toma è un altro mondo ma mi brancano dentro ciao amici di twitch benvenuti mi brancano dentro è impossibile vabbè qua non c'è oh ci ho bagnato un po' pesante voi mi state dicendo che questa macchina non tiene con la pioggia bagnato forte ciao a tutti ciao quando becca l'asfalto io credo che quando andiamo belli velocini da prima a scappare grazie che li fatti noi ah qui cinque marcia bella cinque marce vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa di più di 218 oh che va fuori oh che è andato fuori da solo oh dai ma è impossibile sta macchina allora grandi saluti amor ok vai vai allora è davvero tosto stare in strada con sta macchina ciao amici di twitch benvenuti ragazzi ui 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 caramba ciao manuel manuel dopo facciamo un po' di online se ci sei col grande sharder e il vitico kevin adesso voglio provare tutte le macchine che ho fatto che voglio fermare un po' perché vorrei comprare la ok grande grande manuel ricordami perché non mi ricordo mai niente ci siamo scambiati il oh ma sto scemonito ah ma c'è la dodge ci siamo scambiati della plane l'altro giorno mi sembra la masda è più forte la proviamo allora la proviamo kevin ah strano ok cercami manuel manuel marco drums game ma scusami sul playstation marco drums e basta mi sono incasinato un po' così me la mandi e ti accetto ok ah no aspetta non ho del patti da qua allora quindi kevin ha fatto il party scusate che esco un attimo amore vuoi passare o vuoi cercare le cose ok kevin sono i suoi amici di twitch il party adesso però raga non facciamo ancora l'online perché voglio provare a a fare allora diceva l'amico kevin di provare la masda ciao kevin ha fatto il roma di amici in realtà ah ok ok e come ti chiami nel psm si perché l'abbiamo fatto un'altra volta se non sbaglio vabbè dai dopo me lo dici dopo quando quando dobbiamo che bella però che bella che bella ah ma è un porto da acqua raga manuel ultra ok ciao ciao kevin ciao kevin allora dicevi la mazza è meglio mazza si dicono non lo so si però il problema è di potenziarla di potenziarla devo fare come la toma che bisogna tirar giù le marce eh non va oltre non arrivo al 500 ah guardate che bella la mia toma ti piace a morire la mia toma io in realtà ragazzi l'ho depotenziata eh amore come posso fare un milione un milione allora ti faccio vedere ti faccio vedere il milioncello eh allora express Tokyo non non l'ho mai fatta io perché io faccio Sardegna e la Sardegna la faccio proprio come come ridere allora vi faccio vedere le mie impostazioni bagnato pesante davanti e intermedie dietro ok raga 400 qui tutto regolare invece la potenza delle marce è una roba del genere 41 43 45 279 451 mi devi ancora essere nel gruppo whatsapp senza dodge adesso la facciamo con la dodge sì volevo provarla anche senza perché non è possibile quale come faccio senza la Tomahawk Manuel la compri oppure io stavo provando con altre macchine vedi che stavo stavo provando a farla con un'altra macchina perché sì chiaramente la Tomahawk è quella che va di più non hai soldi ah non hai milioncello per fare allora che è l'amico Manuel non ha il milioncello per comprare la Tomah in modo veloce per far soldini è Sardegna lo stesso bocca loca anche senza sì dai fatti infatti senza la Tomah ci metti un po' di più però puoi sempre fare la Sardegna adesso te la faccio vedere dopo allora facciamo voglio fare questa qui per farvi vedere ok la speed tra i giri ah sì è vero è vero è vero grande no qui c'è la penalità raga che macchina hai di potente queste curve qui sono incredibili perché la macchina non gira poi a un certo punto allora ragazzi facciamo un po' di farming raga bugatti la più potente e fallo con quella adesso ti faccio vedere qual è fammi finire questa gara qui di 12 giri poi ti faccio vedere qual è mitico Manuel ho potenziato la mazza si e fa 700 quella là è questo quindi è un missile un milione si grande allora io non so che gruppo whatsapp ti devo mettere dentro però dopo qualcosa ti metto dentro va bene grande al massimo faremo un gruppo whatsapp non lo so non ce l'ho ho il gruppo messager se vuoi faccio il gruppo whatsapp amici di twitch allora con la toma si va talmente forte raga però bisogna stare molto attenti a sbattere contro i muri perché dà la penalità a sta pista però vedete che anche bella eh quindi io ti consiglio mitico Manuel di fare quella gara che dopo ti farò vedere e che dice il mitico Phil ricompri la toma fai il settaggio come io adesso dovrò fare un video per fare questo comunque puoi prendere quella per fare Sardegna dopo ti faccio vedere anche la Sardegna dopo andiamo online vi faccio vedere le piste per farming dopo andiamo a fare un po' di online insieme aspetta solo un secondo Kevin ti dico un attimo una cosa a Manuel ti faccio vedere allora questa è una per farmare dopo devo fare un video e buttarlo in rete perché vabbè ce ne sono milioni ma come i video di Marco Drums ci sono solo quelli di Marco Drums vero amore mio? esatto e si può farmare tranquilli ok però le stesse piste le stesse cose si possono fare anche tranquillamente con le macchine normali cioè si va veloci si impara bene la pista questo è un modo easy per fare i soldi veloci e comprare le macchine fighe che escono ecco perché poi magari qualcuno dice si vabbè ma io quella lì la faccio con la 500 Abarth con lo stesso tempo tuo eh bravo falla o no Kevin falla cioè chi se ne frega nel senso con tutta la buona volontà e rispetto per tutti ma qui si sta parlando di fare un po' farming veloce di fare una pista di divertirsi comunque perché io sto correndo voi quando farmate comunque si corre non è una roba finta allora oltre la quarta non si può andare con le marce che poi ti farò mettere però il discorso è uno solo adesso ti faccio vedere questa pista qui e ti faccio vedere anche la Sardegna e decidi tu quale fare delle due in base a quello che è poi dopo ti passo i video che sono su Marco Drums Games Channel su YouTube e scegli quale macchina perché cambia cambia Manuel questo è un tipo di macchina è la X invece l'altra non mi ricordo più però dopo te lo faccio vedere fai tranquillo bellissimo quell'altra è non me lo ricordo più perché in realtà non me lo scordo allora qui in teoria bisognerebbe usare il NOS sì il NOS c'è ma non ho ancora e non mi dimentico tutte le volte di dare a vedere il tasto allora lo so ma tanto poi mi dimentico lo stesso poi non so dove andare a vedere non penso ma sì ma tanto ho 20 giri 20 giri devo far 12 non farò mai benzino e no perché ho provato ma non aveva e poi prendiamo 800.000 e poi facciamo vedere ragazzi tipo Manuel Phil non so se Phil fa questa qua per farmare e tutti i ragazzi che sono entrati visto che la live è farming vi facciamo vedere anche un'altra pista oltre Sardegna perché comunque è sempre bello giocare anche a più piste non solo una una dopo un po' uno si rompe va bene il farming va bene comprare le macchine ma comunque Kevin la sto imparando un po' non ho tempi assurdi ma non sto più andando a sbattere ve l'ho appena detto sono andato a sbattere no 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 in quarta in quarta in quarta in quarta allora dopo il problema per buttare giù così tanto questa macchina bisogna lavorare sulle marce e anche il video che devo fare devo fare un po' un casino perché ma c'è un modo Kevin per riportare la macchina come originale ho fatto un video telecronica no davvero bellissimo dopo mi rispieghi come si fa a portare la originale con i risettaggi dai bella bella devi farne uno che con noi dai mi fai un video telecronica grandissimo film facciamo la gara di dopo quella che farò con Kevin Manuel e il mitico Sharder te la me la metto su youtube poi ti tiri giù e fai tu c'hai il pc e mi fai un video telecronica pazzesco solo un giro una gara a due dai facciamo una gara a due eh Kevin Sharder facciamo una gara a due giri così poi magari il mitico Phil ce la commenta bella sarebbe fighissimo comunque non è ancora preso dentro il mio cervello sta sta elaborando la pista sta funzionando dice mia moglie grazie amore mio grande 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 oh non posso andare grande Phil sarebbe veramente figo la telecronica di due giri amore fa e la facciamo sportellate eh Phil perché se no non è bello da commentare lo facciamo tutti con la stessa macchina sportellate oh 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 bisogna frenare, è senza frena comunque cioè l'unica cosa che frena 1 e 38 laimes bisschen è una cosa incredibile allora visto che io la sto affrontando adesso sta pista che io la odio in tutti i Gran Turismo ho sempre odiato questa Tokyo diciamo che adesso faccio 1.48 Voi, devi pubblicare Il mio video Che replay Si, vai tra Calmi queste sporzellate Eh no, dobbiamo fare un video Sharder Mi fai video che tu parti Vai per primo, che gusto c'è di commentare No, no, abbiamo tutti la stessa macchina Anzi, a te ti buco le gomme E vai più veloce anche se ti buco le gomme Quindi smettila Uh, cominciano i doppiati I problemi Allora ragazzi, per Prendere i punti massimi Che qua sono molto di più di Sardegna Sono 100.000 in più, eh, sono 800 e qualcosa Ci mettiamo un quarto d'ora a farla Più o meno, vabbè se non è un quarto d'ora Sarà 18 minuti, te Se poi ci sono scemotti Qualche si mettono davanti L'importante è che non dovete Dovevo bucare tanti giorni fa L'importante è che non andate a sbattere Ma, Phil, io sono iscritto al tuo canale Mandami il link Noi siamo amici su Whatsapp Mandami il link Dopo creo un Whatsapp, dai Creo un Whatsapp con tutti noi Che facciamo prima Eh, Phil? Dopo la faccio e ti invito Anche Sharder Però il numero di Sharder non ce l'ho Sinceramente Se vuole Se Sharder vuol far parte del gruppo Amici di Twitch su Amici di Marco Drums Games Su Twitch Su Whatsapp Troviamo Mandami magari in privato Il tuo numero Su PSN Sharder Se vuoi Ciao Federico Te lo mando Sì, sul PSN Grande Ciao Federico Grandissimo Se non sei iscritto Iscriviti al canale Se sei già iscritto Scusami perché io non mi ricordo la sede Oh 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 Allora Stiamo farmando Fede Porca miseriaccia Allora Sto usando la Toma Adesso poi ti faccio vedere Se ti può interessare Fare un po' di farming Per i milioncini Poi tra l'altro Oggi voglio comprare La Ferrari Da 20 milioni Ok Quindi Ah sul Messenger Va bene Sì grandissimo È vero È vero È grande Ehm Oh 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 Voglio comprare la Che cosa stavo dicendo La Non me lo ricordo più Ah la Ferrari Da 20 milioni Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Allora Un po' di puro Onesto farming Stamattina Ha farmato mio figlio Ieri notte Io fino alle 2 Ho farmato come un pazzo Dopo Warzone E anche mia moglie Mentre stavo facendo le cose Si è fatta un bel po' di farming Quindi io vi dico Che se volete farlo È divertente Potete anche far farmare Non so La vostra famiglia Mentre voi siete al lavoro O siete a scuola Ehm È bellissima sta cosa È Un puro farming Vero Kevin Eh Si fa farmare la famiglia Si fa imparare la nonna Anche se No Non so giocare Nonna farma Mettiti dietro e impara Ma sai che con le marce così Non c'è il È stranissimo Kevin 1,45 Kevin Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Saluta amore mio Eh eh La mitica Bragali La Carla No Allora qui è farming ragazzi Eh Puro farming Con la Adesso vi faccio vedere anche il mezzo Con la toma Con questa Lo so Ma non so il tasto del NOS Metico Phil Non so dove l'ho impostato il NOS Ah ecco perché vanno veloci Perché vanno 500 Phil Federico Grande Federico Sì sì infatti l'ho salutato Grandissimo Segui i Se ti va Federico Iscriviti al canale Che facciamo delle live fighissime E poi ci sono anche Sì Se vuoi partecipare Giocare con noi Senza problemi Ti iscrivi al canale E poi ci passiamo lì Dopo infatti Dopo un po' di farming Fra un'oretta così Andiamo a fare un po' di Online Se metti l'impostazione Sul passo Arriva anche 6,42 Ella là Addirittura 6,42 Ma con queste marce qui ragazzi Oh Allora Fede Oh Scusa Federico Stavo Legge E da quello che hai detto Ah 6,70 Oh la la Ciao ragazzi Ciao amici di Twitch Allora vediamo un attimo No no Dov'è l'impostazione Scusami Dov'è l'impostazione Che mi hai detto Federico Mappatura Ics va bene La cosa sul passo Sai che non ho più pallida idea Allora Allora se non so il tasto Dovrei andare a vedere Dove è Ci ho provato anche prima Ma non ho mica beccato L'impostazione Bisogna farlo da fuori Mi sa Si può fare il carino R3 R3 Ma non lo vedo Non ci vedo Qual è il tasto R3 Volante Aspetta Mi fai luce per piacere Eh ciccio Io non ci vedo Non hai capito che non ci vedo E cosa fai Se non sbaglio Devi andare nella configurazione del volante E puoi mettere Eh Ah si aspetta Fede Grandissimo Fede Allora Grazie che mi dai una mano R3 Mi guardi qual è il tasto R3 Che sto correndo Qual è? Questo qua? Vediamo Se scaccio R3 Non fa niente Si Non fa niente E sta decelerando Aspetta Andiamo a vedere Impostazioni Aiuti Controller Correzione temporanea Dell'esposizione Impostazioni video Quindi controller Giusto raga? Allora Configurazione tasti Ok Eccola qui raga R3 Nitro Sorpasso Perché non me lo fa? Dammi la luce amore Per piacere Partelo Non male Oh R3 R3 Non è che c'è tante scosto Ok C'è scritto dietro Sorpasso Ok Ok Ah si forse si Si raga Si raga Avete ragione Ho sentito che fa E' questo vero? Ma si Si Ma si Mi dà l'efferenza Aspetta Ero sul pezzo Adesso sul dritto Lo provo Ah Grazie Si si Tu ti sei provato Ero a prozzo Sulle curve Ero a prozzo Ero a prozzo Ero a prozzo Demone mattina Che cosa Che cosa Oh Uh Eh si si Grazie 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 Fede Però le gomme Mi stanno andando Eh Ce la faccio arrivare Fino alla fine No 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 Dovrebbe essere Quella batteria sotto No, è una batteria Quel segno verde dove c'è il fuel E che cos'è? Aspetta, proviamo Ok, raga Vabbè, per la prima volta che sto usando il NOS Vai, siamo un camionista su questa curva Allora, raga, marcando sempre Il problema è che non so A sto punto se ce la faccio con le gomme Al settimo giro Sono il 9 Eh, senti il NOS come va? Ce la fai? Ah, ce la faccio, ok, grazie Quanto sto andando? 4,80 Ho spaccato qualcosa? Perché va tutta storta? Eh, aspetta che si... Ma porca raga Pesto NOS Scusate, sono andato dopo Ho spaccato tutto Fede È tutta storta È bellissimo È bellissimo Guarda, è tutta storta ma poverina No, davvero, è tutta storta Caspita ragazzi No, no, sì, dai, è tornata apposta È tornata apposta la mia bella macchinetta L'ho rotta, drum, sì No, no, è tornata, è tornata Caspita Non avevo... Scala 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 Mi dimentico Manuel Guarda Dai fuori Ma tu non sai che io devo farlo col cambio manuale Oh, ti giuro Manuel La prima volta Che ho fatto col cambio Manuale Me la sono fatta tutta in seconda Tipo Ciao amici di Twitch Stiamo superando il gallo Sì, sì, ti giuro Manuel Era Ho provato la prima volta Con il volante A fare il manuale Sì, esatto Bravo Phil Non devo scendere sotto la quarta Ti giuro Che ero lì No, vedo Perché mi sono andato Adorso C'è quella penalità Ti giuro Ho preso Sono andato A un certo punto Dico Ma com'è questa macchina? Non sta andando Anche perché Quando faccio le live Ragazzi Io la televisione Devo tenere il volume Basso, basso, basso Sennò poi rientra Nel microfono E voi sentite malissimo A un certo punto Ho visto Il corno sotto Che era tipo un seconda Tutto così Incredibile ragazzi Incredibile Se scendi sotto la quarta Se scendo sotto la quarta Adesso ti faccio vedere cosa succede Guarda Sì, guarda Ci dovrebbe essere Un circuito Con il tracciato 10 km Per quest'auto È top Eh sì Dovamo provarla Ma qual è scusa La 10 km Ma è il Nürburgring Dici O il Le Mans Intendi quello Mitico Eh sì che la rompo Route X Ah, la Route X Ah, sì Quella c'è La Route X Ma quanto paga? Niente Ah, paga niente Ah, paga niente però Quindi è solo per farla Per divertirsi Ragazzi In effetti sì Ah, ok Diciamo che quello che paga tanto Sono fare il farming E fare l'esperienza sul circuito È che io voglio fare oggi Oggi vuole fare un sacco di roba ragazzi Vediamo se riusciamo a farla Di solito quando mi metto in testa Di voler fare un sacco di roba Da Huracan Scusa Dicemi Eh, Huracan Una quarta Quattro Eh, ma quale? Questa qui Eh, su Monza Ah Siamo all'undicesimo giro E stiamo per approntare Per prendere Settro, ottocento e passa a mila Però ragazzi Io ho imbranchettato dentro uno qui Prima Quindi non credo proprio Di prendere il bonus Che ho fatto bene La pista Anche perché in realtà Non l'ho fatta bene Oh Oh Allora amici Di Twitch Benvenuti Amici Che siete entrati adesso Stiamo farmando un po' Con la Tomahawk Se volete vedere Vi faccio vedere anche il settaggio Se volete Dopo ci saranno tutti i video Sul mio canale Le gomme Sono andate Completamente andate Tra un po' Andrò con i cerchioni Infatti si sente Sinceramente Che sono completamente andate Le gomme Però ragazzi Marco Drums Games È talmente bravo Che può anche vincere Sui cerchioni Oh Appena detto Appena detto E non tiene più niente Non tiene più niente Ragazzi Non tiene sta macchina Sono le gomme Sono le gomme completamente andate Ma siamo l'ultimo giro Beh Se l'ultimo si sta un po' attenti Però Sinceramente Non Vado in quinta In quarta Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Se non siete iscritti Iscrivetevi al mio canale Grazie raga Dai Ci divertiamo E possiamo anche giocare insieme Se volete Grande Maurizio 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 Ma ci sei a farti una bella Una mega giocata insieme Dimmi si o no Dimmi si o no Amico mio Sto facendo un po' di soldi Maurizio Voglio comprare Tutte 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 Le Lambo Tutte le Ferrari Voglio comprare un sacco Di automobili Dai 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 che andiamo a vincerla Dopo farò il video Di questa Tomahawk Su Su Suzuka Su Suzuka Su Express Per adesso Se volete Potete andare a vedere Il mio video su Youtube Marco Drums Games Anche su Youtube Dove c'è il video Dove spiego benissimo La Tomahawk In Sardegna Che andiamo a fare Adesso andiamo a fare Anche la Tomahawk In Sardegna Vediamo un attimo I soldini che mi da Però per quella Incornata lì Credo che non ho il bonus 825 Vai Dimmi le piste E le macchine Ok Manuel Avevi visto? Allora Tokyo Express 825 in una gara Guardate lì 18 milioni e passa Ok ragazzi Non male direi Non male Guardate la Tomah Che bella Vi piace questa livrea? Non l'ho fatta io Non vi dico la verità È un giapponese Bellissimo Fico figato Allora Dai Usciamo Non perdiamo tempo Allora Ti faccio vedere Allora Tu hai detto la Bugatti Andiamo a prendere la Bugatti Grande Federico Grazie 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 Amico Allora Andiamo a prendere la Bugatti Perché tu hai detto che hai la Bugatti E vuoi farmare un po' di soldini Allora Andiamo a vedere un attimo Ragazzi Poi dopo Vi accenno Voglio fare una gara con questa Guardate la 1500 Ok Voglio fare una gara con questa Con questa Ferrarina La R8 Gordini Questa non mi ricordo che macchina Se riesco Ok Grande 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 Maurizio Rimani con noi Poi se riesci a giocare Benissimo Se no sai che Sei unito tu Ciao Maurizio Grandissimo Allora Poi c'è anche la McLaren Loller Ciao Loller 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 Scusa Loller Grandissimo Se Se 94 tra l'altro Bravo bravo Oh iscriviti al canale Grandissimo Allora Hai detto qualcosa che non mi ricorda Con la Formula 1 Vuoi che faccia una gara con la Formula 1 Certo La facciamo La facciamo Che problema c'è Stavo cercando se ho la Bugatti Allora Ho comprato Guardate la CLK Ragazzi Ho mezzi pazzeschi Rimanete sul canale Ragazzi amici miei Perché Ho comprato Voglio comprare la Ferrari Da 20 milioni Quindi la sbucchettiamo insieme Grazie Grazie Loller Grandissimo Grande Allora Andiamo subito Voglio fare vedere Al amico Manuel Che mi ha chiesto Come farmare i soldi Che non ha il milione Per comprare la Tomah Ok Quindi io adesso ho fatto Al massimo Se sei entrato adesso Non l'hai visto Vai e vedi la registrazione Quando finirò la live E ti faccio vedere La macchina I settaggi E come fare per Tokyo Express Way O come si chiama Non mi ricordo Come si chiama quella pista Comunque Se segui anche il mio canale YouTube Ho tutti i video C'ha più di mille visualizzazioni I video dove spiego bene Dove fermo bene Faccio vedere bene Come impostare le marce Come impostare tutto Per la Tomahawk Per la Sardegna E adesso farò anche quell'altro Adesso poi Quando finisco la live Voglio fare anche l'altro video Su Express Bla 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 Allora Vediamo solo un secondo Se ho Tra le mie Mega macchine La Bugatti Se non ce l'ho Andrò faccio con un'altra E ti faccio vedere E poi dopo Tu te la fai Con la Bugatti Perché tanto è un botto No La Bugatti Non l'ho ancora comprata Non la voglio comprare oggi Se no andavo a comprare Immediatamente Perché voglio comprare La Ferrari Da 20 milioni Allora Finiamo il soldiniamo Hai ragione Però La 500 vecchia Ma non c'è Pier Sì Non c'è Pier Dopo quando arriva Pier Facciamo anche Una volta a casa del mio amico Abbiamo messo tutte le impostazioni Gara Sumbabus Ed è stata divertente Sì 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 È bellissimo Tra le mega macchine 500 R Esatto La Sumbabus è top proprio Vabbè faccio con la Huracan O la Honda Quella che ho io Manuel La Honda Aspetta però Quale Honda Perché ne ho un botto di Honda Forse lui parlava della Ciao amici di Twitch La Honda La Honda Aspetta eh La Zonda Ah ok Ah la Zonda ce l'hai? Ok Aspetta che la Rebecca Ciao amici di Twitch Mi raccomando Iscrivetevi al canale Adesso andiamo a farmare un po' Vi faccio vedere un po' Come farmare Pran E poi anche un po' Di circuiti E poi anche un po' Di cose fichissime Ok allora La Zonda La Zonda Fammi vedere due Perché io a volte mi Mi Perdo Mi perdo La Zonda 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 Ok 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 Allora la Zonda Ragazzi scusatemi Non riesco a vedere Non riesco a vedere Dov'è la Zonda Ma dov'è Dove sei Zondina mia Eccola qua Eccola qua Ok Perfetto La Zonda Andiamo Sul circuito Dicami Da Allora American Pan American Oh no È vero perché io la faccio con quell'altra Quindi qual'è che intende Il mitico Kevin qual'è quella che facevamo una prima di fare quella La pista Quella da farming Pan American American Eh uno me la fa fare Perché la macchina sta sta porta Perdoe perché la Zonda No la Zonda E sai che la Panamerica bisogna usare la macchina americana Caspita Mi stai mettendo in difficoltà Manuel Scusami Pensavo di Perché era Phil Aiutami please Daytona Daytona Eccolo Grande Grande Phil Allora Daytona 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 Che va la Daytona Da Eh ma Stati Uniti È questa eh No Ma questa Eh ma Non è Stati Uniti Lui è la Bugatti Volevo aiutare lui Più che altro Ciao amici di Twitch Eh non ha la macchina Hai una macchina degli Stati Uniti Grandissimo Seconda gara Sì La seconda gara però Non ho la macchina degli Stati Uniti La Zonda non è americana Quando Fai la Panamerica Quando da la Panamerica Prendi un'americana Esatto Allora Prendiamo un'americana Dai Eh Prendiamo Gli americani Oh È bello questa cosa Vedi Le auto americani ce l'hai Quindi È già bello Prendiamo sta Corvette Dai O magari faccio una figura È merda che non va Aspetta facciamo un attimo Eh Phil Fai così Fai così E poi mi inchianto Adesso vediamo un attimo America Daytona Seconda Vai Vediamo un attimo Questo serve per farmare Questo serve per farmare Quando non avete Una macchina seria Tipo la Tomahawk Perché sono Tre giri E da 30.000 Se non sbaglio 15k 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 Più la guida pulita Emanuel Però sono tre giri E te la sto facendo Con una macchina Che non va niente Adesso poi te la faccio vedere Con la Tomah Questa è la pista Sì ma dura poco La ripeti subito Bravo Phil Esatto Quello che gli stavo dicendo A mitico Emanuel Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale di Marco Drums Così giochiamo Ci divertiamo insieme Chi? Cosa? Salutatemi Salutatemi in chat ragazzi Così io posso salutare Ok Grande La faccio ora Esatto Allora La fai adesso Ti prendi 15k Lozzi Esatto E' una delle più ridinzioni E' la più facile Hai visto questa qui E' una E' un'americana Tranquillissima Una corvette Non è niente di che Guarda come gli do paga Puoi anche andare A schiantarti sul muro Non c'è problema L'importante E' che non tocchi dentro loro Perché se tocchi dentro loro Ti tira via la guida pulita E comincia a diventare Una cosa Un po' rompina Allora adesso ti faccio vedere Con questa Ti faccio vedere immediatamente La stessa Con la Tomah Qual'è Kevin La Tomah Allora La verde E' per fare Quella pista La che sappiamo Io e te La X E' quell'altra Allora Per fare Per fare altro Che ha le marce normali Quale pista Quella rotonda Quella di Daytona La Daytona Panamerica E' quella Panamerica Uso la verde Giusto? Sì Ok perfetto Adesso ti faccio vedere Perché io Ragazzi Le Dodge La FCA Che sarebbe la Fiat Dodge Tomahawk Le ho comprate tutte e tre Perché servono per farmare per tre cose diverse Adesso vi faccio vedere E comunque ho finito Il tempo di dire due stupidaggini Divertirci un attimo E magari Neanche un caffè Vi siete fatti 15.000 Di base Ma se non andate contro A nessuno Adesso andiamo a vedere Quanto mi paga Dovrebbe essere 30.000 Lozzi Adesso non mi ricordo più Ragazzi Ok Vediamo un attimo Scintillando sul muro Scintillando Poi il bello E' che 22.500 22.500 Non è male Per tre minuti Neanche Quindi Poi il bello cos'è Esci Riprova E sei subito dentro Capito Manuel La fai easy 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 Adesso te la faccio vedere Invece con La Tomah Che non è un formaggio Ragazzi Ma è la Tomahawk Della Dodge Vero amore mio Allora io l'ho messa di color verde Perché mi piace il color verde Ok ragazzi Dov'è la Tomahawk Dov'è la Tomahawk Dov'è la Tomahawk Ma Io devo provare anche questa qui Dobbiamo provare la Mazda La Mazda GR1 Kevin Tu dove me la consigli Non ho capito La Mazda La Mazda GR1 Quella che abbiamo comprato Ieri Oggi Dove me la consigli Su che pista Le man Sono fate parlare le man Allora la proviamo Sì Aspetta che vi faccio vedere Le man Ah quella c'era la propria cosa Dele man Sai che non l'ho mica vista Adesso dopo vado a vedere Tanto devo entrare Devo farci caso Devo farci caso Allora Dovrebbe essere questa Che era nascosta Ok andiamo A fare la stessa gara Così ti faccio vedere Manuel in quanto tempo Poi la farai con la Tomah Ok American Daytona Seconda gara Partecipa X X E via Importante E come ti dicevo Manuel non andare a sbattere Se poi vuoi fare Questa pista Che ti piace Ti faccio comprare Questa Tomah Se no ti faccio comprare Sulla Sardegna L'altra Eh La XVG Com'è che era la XVG Kevin Te lo ricordi Per la Sardegna Qual era La Tomah Allora potete andare A sbattere E io ti voglio far vedere Solo Che questa macchina qui Va molto molto più veloce Sì lo sto usando Non è che va troppo di più Ma dov'è il nostro scusa Sì è qua Sì sì lo sto usando Scusate mi sono incornato perché Ma la mazza Eh devo allungarla Serto Sì è Oh 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 Eh no no sto facendo la Tomah Scusate di comprare Eh beh Ah la Mazda bisogna comprare di turbo Non ce l'ha già No Perché senza turbo Eh si è troppo rosicati eh E' bello E' bello è Nel turbo fa benissimo Però Beh con le ragioni Sì no effettivamente Non era questa la mazza La dodge Che uso di solito Però è solo per far vedere Al metico Manuel Che se lo fa con una macchina Molto più figa Ci mette molto meno Cioè Infatti L'abbiamo fatto in un attimo raga Vediamo un attimo 15.000 Tra l'altro Non mi ha dato il bonus Non mi ha dato il bonus Vuol dire che ho toccato dentro qualcuno Bella lì Bella lì Non mi è piaciuto tanto Non mi fa niente Allora Per invece La Sardegna Ragazzi Allora Invece di andare a farmare subito Con la Sardegna Vi faccio Voglio provare La macchina che abbiamo comprato Questa qui Questa Meravigliosa Mazda Farò Tokyo Con la Toma Sì 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 Tokyo con la Toma Allora Se vuoi fare Tokyo con la Toma Però Manuel Guarda un attimo Dai aspetta Te la faccio subito Ti faccio anche la Sardegna Così decidi quale comprare O la Tokyo O la Sardegna La Sardegna ci vuole 5-6 minuti in più a farla Ragazzi guardate che ho comprato la FXX Mamma mia Mamma ragazzi La FXX Allora no Ho sbagliato il tasto Scusate Allora Garage Voglio farti vedere la Sardegna Allora Visto che ne stai parlando Così te li faccio vedere tutti E poi decidi Allora Se vuoi comprare Te lo dico La Tomahawk X VGT Ok Mi raccomando Dopo comunque farò i video C'è scritto La Tomahawk X VGT Per Tokyo Mia moglie guarda le foto Che faccio io Su Twitch Metterli Le copertine E invece Se vuoi comprare No Se vuoi fare Scusate La Sardegna Ok Bisogna prendere La GTS La GTS R VGT Giusto Kevin Giusto Kevin O no Si Assolutamente si Allora Se volete fare la Sardegna La GTS R VGT Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Andiamo a farmucchiare Farmucchiamo Per l'amico Manuel Vi faccio vedere Ok Ok 800 Siamo a 797 Tra l'altro C'è un video Su Youtube Mio Marco Drums Games Anche su Youtube Che vi spiega Esattamente come farla Come portarla Questa Allora Mettiamo Consumo 6 Perché Adesso sentite la macchina Che urla Ok Ma è così Perché Bisogna depotenziarlo Sto mezzo Che si fa solo con le marce Tra l'altro Io Ho dovuto superarli Nel prato Quindi Eh Bisogna stare molto attenti Perché sta toma È terribile Ok Lo sentite come stride Perché Pur Per fare sta gara Bisogna Per forza Per forza Buttare giù le marce E E fa una roba del genere Però io adesso Per fare sta gara Raga Devo mettere Mia moglie Tanto se la ride Il cambio è automatico Perché Perché se no È una rottura Di scatole Perché tanto è Come si dice È Come si dice Intanto è È figo È figo Perché tanto dovete farmare Orca Sono andato addosso Orca Ho perso Io gli 800 700 mila Vabbè Perché le marce Perché le marce Sono veramente strane Economia 6 Al massimo Vedete che Va pochissimo E fa un rumore assurdo Infatti su queste Televisori Farà Come anche da me Infatti alzo Basso un pelino Perché purtroppo Per Buttarla giù 600 Quando i soldi Da Allora Questa ti dà 100 mila Meno dell'altra 7.25 Ci metti Dai 22 Ai 25 minuti Se non sbagli E fai tutto perfetto Si fa solo Una Una sosta Benzina Però Ti dico la verità Io preferisco Sta pista È più giocata Non c'è la pioggia Conviene Tokyo Assolutamente Conviene Tokyo Assolutamente Diciamo che questa Mi piace di più Come pista Forse è una cosa mia Che Perché poi Tra l'altro Ragazzi Questi soldi Sono stati dati Dopo la patch Vi ricordate che C'era stato Un depotenziamento Non si parla Di depotenziamento Sui soldi Però vabbè Il mio canale è mio Faccio quello che io Parlo come ci voglio C'è stato Un Un depotenziamento Come appunto Ho detto Dei soldi Su tutte le piste E la community Si è arrabbiata No? Perché insomma Hai fatto il gioco Con quelle cose lì E dopo Sono state messe Ste gare Che pagano bene Paga bene Anche l'esperienza Sul circuito E paga bene Altre altre cose Io adesso Voglio comprarmi La ferrarina Da 20 milioni E voi vi dite Perché Perché tanto Non va forte Non è stata Le mani Perché Perché di sì Questa Se la ride Con le mie foto Eh? Quelle dei giochi Fai vedere Quella del tennis O della formula 1 Ragazzi Se si vede Perché No Lì non ce la fai Vedi bisogna Siamo già al terzo giro Ridendo scherzando Quindi non è una roba Impraticabile Comunque vi ho mostrato Che topio Si può fare Tranquillamente Anche se Si ride Si scherza E non si è proprio A meno che Vuoi diventare Figo Quindi Te la fai bene Senza sbagliare Senza concentrandoti E allora Si riesce a fare Dei bei tempi Anche lì Perché Il mitico Kevin Riusciva a fare Dei bei tempi Sono forti Sono forti Come se ne arrivi La cazzo Sta guardando Tutte le copertine Che faccio Su youtube Sai quelle dove Metto la mia faccia Al posto Ah c'è Kevin Aspetta che Quando è finito Mi faccio vedere Aspetta Kevin Che poi ti fa vedere Le foto Sulla live Ma dove sei Quale Sembra Hamilton Dai Con la barbetta Così Davvero Stiamo vedendo Una serie Su Netflix Carina La regina De qualcosa Del sud Che è una narcos E parlano tutti In spagnolos E allora Dios Dios Cosa che diciamo sempre Cabron Così a prescindere Cabron Ciao amici Twitch mi raccomando Scrivetevi in live Così vi saluto In live Assolutamente Scrivetevi Scrivetevi nella chat Così vi saluto in live Io questo volevo dire Poi mi è uscito Due volte in live Iscrivetevi al canale Grandissimi Dai così Se volete poi si può anche giocare insieme Facciamo delle sessioni Dove giochiamo anche insieme O comunque Io vi faccio vedere Tutti i modi per farmare Varie piste Corriamo insieme Viviamo Scherziamo E fai bla 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 Tanti bla 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 Ok Ok Oh si è alzata Si è alzata Allora ragazzi Sette giri Possiamo tranquillamente Fare benzo anche dopo Eccoci qui Avete visto Quando pensate Che tutto va bene Dove è il tastone Della retro Quando pensate Che tutto va bene Vi girate Proprio così Allora se sentite Le marce Così Servono Perché dovete Depotenziare la macchina Per poter fare la gara Quindi Non Non avete fatto Esatto Vuol dire che va bene E col nostro Si riesce ad arrivare Quasi a 300 Comunque Non ho mai usato il nostro Effettivamente Non ho mai usato il nostro Ragazzi Una cosa incredibile Perché è un posto Totalmente scomodo Il nostro Che per schiacciarlo Devo tenere molto Praticamente con il nostro Non consuma benzina Questa la conosce bene Che mia moglie Perché ci farma Fermi amor Mi da una mano Far male Quando voglio Giocare Che io sono al lavoro E non sono a casa E non siamo in live Si mette dietro E gioca Poi con i settaggi Che vi farò vedere Ci sono nel video Ok raga Non Vedete Che è Ferma Fissa Non fa cose strane Il Il TCS Ce l'ho al 3 Quindi Potete anche Tranquillamente Se andate bene 1 E 34 1 E 33 Quindi Sono bei tempi Stiamo molto attenti Ai corduli Stamattina Non amo I corduli Qui Si avete ragione Si potrà tirare le marce lunghe Ma non si può Perché si esce fuori Dai pipì Della gara E non si riesce a farla Però vedete che È proprio easy È così Anzi Devo frenare anche un pelo Prima marco Magari E te gira ancora Te gira Sta macchina No Che mi è venuta addosso Lei Oh mi è venuta addosso Lei però Io credo che me ne dà Gli 800 milioni Scusate 725 Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Scrivetemi in chat Così vi saluto Grandi Saluta amore mio Saluta con la voce Non ti vedono Magari Ciao Allora facciamo ancora 2-3 giri E poi andiamo a fare la benza Le gomme Non servono a cambiarle Perché sono dure Quindi senza problemi Si fa tranquillo Tranquillo Sto usando il nose con l'R3 Sentite che Che urla Ma è tutto normale Perché Come l'ho già detto Un po' di volte Bisogna tirar giù i pipì I punti prestazione Per poter fare la gara Con la toma Siamo alla Sardegna Ci fanno 725.000 Easy C'è anche un video Su Youtube Dove spiego tutti i settaggi E come fare Perfettamente Quindi Se volete Usare la toma Su Sardegna Andate a vedervi Video su Youtube Marco Drums Games Comunque All'inizio di questo video Ho fatto vedere Anche i settaggi Adesso Andiamo comunque A farvi vedere Un attimino Anche il settaggio Di questa Però come arrivare Le marce Lo spiego nel video Perché Bisogna un po' Starci lì E abbiamo fatto anche Tokyo Expressway Dimmi tutto Kevin Stavi parlando? No No Ok Stavo con lì Parla Perché avevo Interrotto Ok Dai Siamo Quasi No Siamo Quasi a metà Quasi Questa curva Qua è Terribile Bisogna frenare Bisogna frenare prima Dopo andiamo a provare La mega Ah ragazzi Voglio comprare la Ferrari Da 20 milioni Se quindi volete vedere Che mezzo è il nuovo Ferrari Nuovo Un atto leggendario La vecchia Ferrari Da 20 milioni Che c'è sullo store Quelle povere 20 milioni Però io raga Voglio tutte le Ferrari Tutte le Ferrari Che usciranno sul gioco Io le voglio comprare tutte Quindi Diciamo che già sono a buon punto Me ne mancano pochissime Da comprare E questa 250 GTI O GTA O GTV Non mi ricordo più È una che voglio Assolutamente Ma sì Tanto Kevin Poi parliamo ancora Su queste piste qui A me piace Mi diverte Poi voglio fare Anche un po' di esperienze Sul circuito Sinceramente Kevin Perché pagano Veramente bene Cosa? Esperienze sul circuito Io non le avevo ancora fatte Perché Chiaramente giocando Tanto online Non avevo fatto Le vecchie esperienze No? Sono un po' di rotina Dici? Eh Voglio fare un altro Paio di gare Emanue Prima del line Che ore sono? Sì dai È presto È presto È presto Hai visto Per superare Quello stupidotto Lì Ah Per superare Quello stupidotto Lì Ah Facciamo Fammi far Due o tre gare Poi la facciamo Non so Quantizzati Il tempo Tu devi andare via Per caso Se no Intanto Che stai con noi Rimani su Twitch Chiacchieriamo Ci divertiamo E parmi Che vai a farmare Su quella pista là Così ti fai Il tuo bel primo Miglioncino Beh Non tardi Voglio fare Allora Vediamo un attimo Cosa voglio fare Voglio fare Qualche esperienza Sul circuito Poi voglio provare La mitica Mazda Che ho comprato ieri Da 700 A due milioni e mezzo Cosa costava Che hai Due milioni e mezzo Mi dai Amore Un fazzoletto Che mi prego Il fazzoletto Quattro e mezzo Cioè a quattro e mezzo Vai via Dove sono le tre Sì dai Tipo le quattro e mezzo Va bene Ancora un'oretta A giocare così Poi facciamo un'oretta Di Online E poi Basta che devo fare La pizza oggi Sì sì Va bene Va bene Ma forse anche prima Forse anche prima Rimani in live Voglio fare appunto Con le tre garette Provo sul circuito Che non so Quanto ci metto Poi voglio provare La Quella macchina lì Aleman Che sono cinque giri Se non sbaglio Dopo Le prossime live Voglio provare Anche fare i tracciati Quelli da un'ora Eh Devo fare una cosa Qua a casa Ok Sì dai Se puoi farla adesso Quella cosa lì Intanto che rimani Comunque in live Ti conviene farla adesso Pena finissi Poi giochiamo Se invece Vuoi giocare prima con noi Per far poi Dopo quella roba Che devi fare Eh Faccio giusto Ste due tre garette Che devo Poi dopo Facciamo un po' Di online insieme Con il mitico Kevin Che anche lui Sta farmando Stai farmando Kevin? Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Ciao amici Oi 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 caramba Ok Va bene Dove è Dai Ok Va bene Va bene Sono d'accordo Così faccio tempo Fare Quattro cosine io E poi andiamo A giocare un po' insieme Ok Ciao amici Ciao 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 amici Di Twitch Amici di Marco Drums Allora Se mi scrivete in chat Qualsiasi cosa Io vi saluto Ok ragazzi Vi saluto in live Grandissimi Comunque Stiamo farmando Un po' Con la toma Ok ragazzi Su Sardegna Per fare 725 mila In 22 23 24 Minuti Se vi interessa Ci sono tutti i video Sia su youtube Che spiego benissimo Marco Drums Games Ok Oppure anche qui Ho fatto Dei punti Dove Però vabbè Il video Il video proprio E' vero E proprio L'ho fatto Qui youtube Se volete Che vi spiego Proprio come Tira suoi Giù le marce Ragazzi Quindi andiamo Di nos 3 giri Non riusciavo A finire Tutto L'ambaradam Con La benzina Con le gomme Si perché ho messo Quelle dure Allora Con la toma La fate easy easy Però ragazzi Potete farla Con qualsiasi mezzo Cioè Con anche La macchina vostra Che vi piace Io l'ho fatta Anche con La Qual era quella Che abbiamo Perto la settimana Scorsa Che vi Quella Quella bianca e blu C'è quella Da 9 milioni e mezzo La McLaren Bravissimo La McLaren BMW La McLaren BMW E la fight Easy 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 E anche con quella Quindi Io vi faccio vedere Un modo easy easy Veloce Per farlo con la toma E Ma perché che fai Con qualsiasi macchina Anche Express Wave L'ho fatto con la toma Ma potete farla Con quello che volete Con la FCA Tomahawk D'oggi E FCA Che poi Tra l'altro La FCA E la PSA Che è il gruppo Francese Peugeot Citroen CACCHIO A volte Questa qui Oh raga Quando la sbagliate Praticamente E' andata La curva Ok dai Entriamo i box Che tanto bisogna Entrare Non cambiamo Le gomme C'è in giro Qualche cosa Che mi danno Allergia Ogni tanto Agli occhi Incredibile Ragazzi Passagli un po' Di liquido Per le leggi Ok Ok E farà anche noi Il video Così E' fortissima Ma è nostra Il video Suo Ah Bella Phil Sto vedendo Il tuo video Che hai fatto Grandissimo Sembri un presentatore Della Basta però Grande Phil Daù ti faccio vedere Il video Che ha fatto Phil Che è fortissimo Importante Amici miei Che non prendete Le macchine Potete prendere Anche i muri Non succede niente Tra l'altro Come adesso Non ho capito Per quale motivo Non frena Cioè Non frenava Sì sì È proprio Un cronista Grandissimo Phil Allora Basta Ah Perché forse Ho schiacciato L'R3 Cosa No Mauri Dai Grandissimo Che figata Maurizio Grande Grande Ok amici Abbiamo Stiamo Finendo E andiamo A fare un bel Giretto Le manche Vi faccio vedere La matta Quella che c'è Da due milioni e mezzo Se non sbaglio Così Vi faccio vedere Un po' Se magari Avevate intenzione Di comprarla Magari possiamo Fare la stessa pista Sia con la Mazda Che con la Nissan Così Vi faccio vedere Un po' Le due macchine Prima ve le faccio vedere Quelle le ho comprate ieri Le ho fatto un video Perché avevo troppa paura Che magari Me le toglievano stanotte Limitate Poi le toglievano subito Che le ho comprate Senza comprarle in live Oppure forse No Sì sì Ieri le ho comprate Senza entrare in live Infatti Ho pensato a Farmare Tantissimo Così almeno Compriamo almeno Oggi insieme La Ferrari Da 20 milioni Ve la faccio vedere E così Vediamo un attimo Se anche secondo voi Vale la pena Farmare Per Per Quella macchina lì Oppure Oppure no Oppure no Ci siamo quasi Amici Non si può Tenere sempre giù Il nostro Fortissimo Fortissimo Aveva il nostro Kevin In curva E' un disastro Adesso che ho scoperto Il nostro Lo uso sempre Anche quando non devo Comunque si va Talmente veloci Che non è Necessario Frenare all'ultimo Tutta piena Tutta piena Ciao amici Tutta piena E ho sbagliato E ho sbagliato Ciao amici Scusate Volevo fare il tempone Incredibile Invece ho fatto Un tempone Contro il muro Comunque Il bello è che Non si rompe le macchine Anche se per caso Sbagliate la curva Non c'è problema Sto correndo a Sardegna Con la Tomo Per voi ragazzi Amici Che siete entrati adesso Se vi va E vi piace Iscrivetevi al canale Qui non frena mai Qui non frena mai Ma perché Quando sbaglio il giro E' proprio un disastro Cioè quando sbaglio il giro Ragazzi Non è che si sbaglia un peggnino Marco Delano Lo sbaglia tutto Proprio Non capisco più niente Tutte le curve Sbagliate Andiamo a farci L'ultimo giro E ci prendiamo Questi bei 725 millozzi In In 1.36 1.45 2 Quello 2 E' stato quando sono entrato Dentro a fare A fare il pit stop Delle gomme Bisogna Bisogna anche Il Nürburgring Il Nürburgring O provo a fare Ragazzi Volete che provo a fare Il Nürburgring O l'Aleman Con queste due macchine Che abbiamo comprato Che una è la Nissan Da 2 milioni e mezzo E l'altra è la Mazda Sono GR1 Leggendarie Le Manna Ah le Manna Con le leggendari Ok Ok Sono proprio per Aleman Quello Con le macchine Dalle Manno Si può correre Il Nürburgring Si Cioè Con qualsiasi macchina Si Però Non sono Si Però Non sono Fatte per Nürburgring Diciamo Sono fatte per Aleman Si Guarda Qualcuno C'è Ne No Davvero Figata E' bellissimo Dobbiamo farlo E lo portiamo Su YouTube Mi chiamo Si può giocare Anche insieme Lo sai Eccola qui Ragazzi Anche se L'OEA Non c'è Come non c'è L'Online Sicuro? Pensavo di sì 725 Non è online Allora Ok Infatti E' così bello Allora Adesso Vi faccio vedere Le macchine Ok Abbiamo fatto Sardegna Con questa Ma potete farla Con qualsiasi macchina La Sardegna Allora Vi faccio vedere Un attimo Le auto usate Che le ho comprate tutte La Silvia La Silvia La Nissan Questa qua Il maggiolone L'800 La BMW L'Alpine La Honda L'Abarth Della 500 Amici miei La Renault La Nissan Tante Nissan Mi sono preso la Mazda Ah l'hai presa la Mazda Infatti adesso vado a provarla Vado a provarla Poi ho comprato la Corvette Bellissima È bellissima È fatto bene La Corvette ZR1 Ragazzi Mi sono comprato La 512BB Che c'era un'altra Ferrarina E la McLaren 09 Della Mercedes Benz E anche la R8 E la Nissan Che ho preso oggi In più Eccoci qui La Toyota La Jaguar Ok raga Ma la Jaguar Kevin Auto da corsa Allemane Ok C'è proprio scritto Ok Ma era la Jaguar Quella che mi dicevi tu Poi ho comprato la Mazda Amici miei Andiamo a comprare dopo La Ferrari L'Alpine La Shelby La Gordini Eh la R8 Della Renault Questa mitica M-Gain Della Mercedes E la La Nissan E anche la Mazda Tu mi dicevi la Mazda Perché praticamente Sono tutte dalle mani Comunque Qual è Qual è la più forte La Mazda La Mazda Grande Phil Grande Bellissimo il video Lo voglio anch'io Allora andiamo a provarlo E beh la proviamo La proviamo Però bisogna comprare qualcosa Secondo te E deve potenziarla Arca miseria Però non è che volevo Proprio potenziarla Adesso Volevo comprare la Ferrari Vabbè Beh la provo così Dai Chi se ne frega Vediamo come Come si comporta Magari Gli compro giusto Le gomme Ma c'è tante di quelle macchine Che non riesco neanche più A Allora la Mazda Come ho detto Pubblica Su Youtube Poi sì 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 Assolutamente Grazie Sì 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 Ah bravo 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 Sei riuscito a fare Una con la Huracan Grande Sharder Che ti ha battuto il record Quindi dopo Cori 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 Contro Kevin Che Viaggia veloce Io ho visto però Se lui va bene bene Fa una 38 Però Preciso Troppo preciso Ce l'avevo qua ragazzi La Mazda Vabbè Stavo cercando tra tutte Kevin era sui La prima in alto Allora Messa punto Messa punto Vediamo un attimo Che cosa c'è da comprare Beh il limitatore di potenza Ragazzi Cosa bisogna comprare Di razza vora Sempre Su praticamente Tutte le macchine Eh sì C'è da comprare Il turbetto Io vorrei provare Anche senza il turbetto Medie No Dobbiamo comprare Le dure ragazzi Perché Le Mans Con le medie Non ci fai proprio niente Ok dai Andiamo a provare La Le Mans Con questa macchina La Le Mans Ok Quella Fede Grande Sto provando Le Mans Con questa Macchina incredibile Che stanno vendendo adesso È È È Ovviamente Una Macchina Fighissima 8 giri Era La Le Mans 8 giri Vediamo La Le Mans 700 Inferiore Quale record Dice il filamo Il record dell'ultima volta Quando abbiamo fatto la gara 1 43 o 143 o 144 dice che vediamo un attimo come funziona perché 700 ancora non è 798 Cascita ma come la Le Mans non mi fa fare la gara scusami non mi fa fare la gara che mi troppi pipì Ok comunque te la sto aspettando sul gratuito Te sto aspettando Beh inizia a giocare inizia a giocare ho detto anche prima all'amico All'amico Manuel che voglio fare questa gara e altre due tre cosettine ancora offline Quindi se puoi che non devi andare via dopo arriva anche Manuel e arriva anche Kevin Dopo faccio mostra con la F1 va bene Oh Kevin è un bolide però prendo pochissimo eh La Mazda E adesso si cazzo devo toglierlo che mi dimentico Devo fare il manuale eh Si si allora tu si riesce a manuale Quale è la più veloce e fino a meglio Poi devo fare Monza per l'amico Fede Che è un automatico appena sulle frene pasta Non vuole fare Ah si A 5 marcia Tu dici lui Perché deve cambiare la marcia forse E' ancora vecchio stile sta macchina eh Non le manda gli anni Dietro Eh si Eh deve cambiare Si 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 sente Le cuffie con il jet condiviso Perché se no Si sente le cose fatti Le cuffie Con il jet condiviso Che vuol dire Porca loca Orca loca Ragazzi ho sbagliato Le cuffie con il jet condiviso Io ho le pulse 3D Con il jet Dici Non ho capito quale Jack condiviso Fil Mi tipo Intendi Ma poi non è sempre L'audio Ah perché senti l'audio Ma io A Kevin lo sento benissimo eh Tu mi senti bene O con l'eco Kevin Eh Kevin Avere più tutti Ciao amici di Twitch La lobby l'ho fatta Eh io entro tra una mezz'oretta almeno eh Charger Minimo una mezz'oretta Non so se vuoi stare di aspettarci Non viene Fatti qualche garetta Sempre l'eco Eh e tu come lo togli Scusami il fattore dell'eco Io ho l'aericolare adesso eh Porca loca Sto provando sta macchina raga Perché non l'ho mai fatta L'ho fatta con L'ho fatta con Vabbè Ascoltando il tv Si sente Da quello che faranno Non è fatti Ma io non ascolto Io sono tv O solo un po' di Stamacchina Ce l'ho GTA 5 Che figata Però tiene eh Tiene di brutto Ebbè insomma Qui perché l'ho cannata io Sto leggendo Quello che mi scrive l'amico Phil Al massimo poi me lo spieghi dopo Phil Perché sinceramente non ti sto capendo niente Cioè io ho l'auricolare E il party ce l'ho solo nell'auricolare eh Non c'è niente nel tv Le tv ho solo un po' di audio Di gioco Perché se no Sarebbe Le fucchie Purtroppo Faccio una fatica a sentirle Posso passare ancora un po' l'audio del tv Ho le fucce 3D Che posso usare anche Non in bluetooth Ma in filo Cazzarola però Quella lì Frega un po', frega un po' questa mattina Allora Kevin ha mandato l'amicizia A Sharder Se ha detto se vuoi entrare a giocare con lui Che ha già fatto la lobby A me? Sì La mandato l'amicizia Se no gli dici Io entro fare una mezz'oretta Perché voglio fare un po' di roba offline Dopo facciamo un'oretta di online Assolutamente Però Sharder ha già fatto la stanza Ha detto se hai voglia di entrare dentro Adesso La mandato la richiesta di amicizia Finisce la cosa che fa E poi dopo arriva Sharder Caspiterola Ora io non so come fai te Ma questa macchina non mi frena Ma tu hai provato l'Aleman? No Ah ok Hai provato questa Monza? Grazie Sì La possiamo provare anche noi Per vedere proprio la differenza raga A parte che non l'ho E vabbè 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 A parte che non ho elaborato Il turbo E Non ha visto la richiesta La tua richiesta Sharder Che vi dice che non gli è arrivata Nessuno ha richiesto l'amicizia Ma non è che ce la vi già dentro Magari Cosa? Non ce la vi già amico Che è Sharder L'altra volta l'avete giunto No? Ah Fil Fil Ah Frenna macchina Dai Se me la manda lui Ah adesso si puoi mandarla tu dal party Ah ok Non te l'ha mandata Aveva detto se mi manda la richiesta Giochiamo Scusa Adesso l'ho fatto Dice la cosa che deve fare Da parte che ti senta te Ah 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 La mandata perfetto Ah E' proprio su sta world Figo sta world Bellissimo Tutti Per prendere tutto Si fatti Sharder Ti stavo dicendo le cose Ma poi mi sono reso conto che Porca L'occhina Sta pista E tre giri Che la sbaglio Sta curva Normalmente con la McLaren La BMW Ormai la sua memoria Con la macchina la Non lo sbaglio mai Questa Mazda E' un po' diversa Eh Uh Tieni le gomme bucate Mi sa di sì Mico mio Si è arrivato tu a bucarmela Cacchia no È incredibile Allora contando che Non ho neanche il Che non ho neanche il Si sente il paese Tesoro Eh ma non lo sai Contando che Usa gli auricolari Bucati già le gomme Sennò Marco non ti vede Ah 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 Eeeh Va belli Eccoli là i due Eccoli là i due Se sbagliamo un po' meno Credo che la vincevo eh Ti vorrei mettere il turbo però Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Siamo a Le Mans Con la Mazda Da Du Millions Comprata ieri La sto provando La faccio vedere da fuori Non ho messo il turbo E' l'unica cosa che manca Non è quella Wow come sgasa Mi manca solo il turbo E le gomme dure Eh come è sgasato Bella lì Vediamo se riusciamo a prenderli La Hyundai La Hyundai mi piace Guardalo che balordo Ma dai Ma sei un vandalo Mi hai fatto andare contro il muro Le mie non le buco Ma dai ragazzi Queste sono le gare E' stato un vandalo Dove lo superavo Quello Hyundai L'ultimo L'ultimo Rettilineo Ma La vedo dura Eh si Infatti Poi non me le ricordo Sto ciclisto E' troppo lunga Per ricordarmela tutta Vedi infatti qua Non me lo ricordavo Che andava adesso Allora se Non mi buttava fuori Quel vandalo Sicuramente secondo Ma anche primo Secondo me Invece mi ha proprio buttato fuori Quel vandalozio Vabbè Vabbè ci sta Ci sta Tanto volevo solo provarlo Vediamo un attimo Replay Perché sta macchina Veramente figa Diciamo che dovrei spendere Un po' di soldi Per Appena collegato 800 Eheh Ciao 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 Snow Mi sono appena 800 in mezz'ora In che evento Allora Grande Snow Grazie mille Grazie mille Allora, ti fai 800k in... Se vuoi la facciamo subito? Vuoi che te la faccio vedere, Snow? Così almeno rendiamo utile tutto l'ambaradan qui. Ti faccio vedere proprio adesso la pista. Così intanto ci facciamo 800k. Grande, grande Andrea, grazie mille. Io ti chiamerò sempre Snow perché mentre corro vedo solo l'iniziale. Grazie mille, ma se puoi. Vieni su Marco Drums Games, ci divertiamo. Tutto quello che so, ve lo faccio sapere. C'ho gli assetti, c'ho tutto quanto. Anche se poi ti interessa, segui il mio canale YouTube dove spiego... Faccio tutti i video dove spiego bene come settare le gomme, come settare le marce, come settare tutte le macchine. I vari assetti quando li trovo li provo io e vedo se funzionano o no. C'è un assetto della Ferrari che è interessantissimo. Stesso canale Marco Drums Games su YouTube. Comunque questa macchina è un missile. Qui ho sbagliato, ho sbagliato io qualcosa. Se non mi ricordo male, sono andato a sbattere. E la gara è stata compromessa. Però vabbè, non fa niente. Andiamo a fare quella da Tokyo con la Tomahawk. Mi raccomando, adesso ti spiego. Dopo devo fare un video. Lo faccio oggi, giuro. E poi lo posto su YouTube. Però ti spiego già, visto che non l'ho ancora fatto. Ti faccio vedere. La Tomahawk è questa qua. Se non ce l'hai, farma un milioncino. Grande, grande, slow. Grande, grande. Grazie mille. Allora, ti faccio vedere comunque lo stesso qui. Dopo lo spiegherò bene. Perché più che altro è una questione che devi spostarti le marce. Spostarti su, spostarti giù, spostarti su. La Sardegna, ho già fatto il video, ed è fattibilissimo. Con la GTS R. Ti offendo. Se non fai Monza e Formula 1. Caspita! Allora, ascolta, aspetta. Facciamo Monza Formula 1. È vero, vero. Ma beh, che non mi ricordo. E mangio pan di stelle. I pan di stelle sono buoni. Io sono in dieta, ragazzi. Mia moglie non me le compra più con le cose buone. Allora, Monza con la... I pan di stelle, amore mio, non si può. I pan di stelle. C'è un po' con la napoletana. Ah, la pastiera. Andiamo a prendere la pastiera. Con un po' di cochina? No, la cochina non si dice perché è pubblicità. Con la cola. Dai, amore, un po' di cola. Una volta ogni tanto. Allora, ai ai ai, amore mio. Allora, no, ho sbagliato, scusate. Cosa devo fare? Ah, la Formula 1. Non me lo ricordo, Fede. È che lo faccio apposta, sinceramente. Non mi ricordo il cazzo. Vabbè. Monza, Monza, Monza. Dopo, grandissimo Snow, ti faccio vedere la pista e tutto quanto. Faccio prima il grandissimo Fede perché gliel'avevo promesso tipo 50. Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo del nord. Per fortuna, poi, c'è grandissima gente che ce le porta su. Quando va giù a trovare i parenti, ci porta su proprio quella fatta di giù che è fantastico. Allora, Monza, abbiamo detto. Perché ho fatto il Lago Maggiore? Bravo, Marco Drums. Allora, giro completo. Così, ce la facciamo. Difficile questo. E andiamo. Ecco. Allora, Monza, ok? Con la Formula 1, ragazzi. La livrea è quella di Chumi. La torta diplomatica, tanta roba, eh? Allora, non ho capito questa cosa qua che mi ha imbroccato un po' le marce a cacchio. Però, vabbè. Sì, sì, assurdo. Assurdo, Fede. Tra l'altro, va anche veramente piano. Uh, cola e ghiaccio. Arrivo, amore. Fammi di là su. Ok. Ok. non sembra che vada poi tutto sto esagerato se non mi tiene bene nelle curve con alcun senso anche perché questi sclerati qua davanti se non si spostano vai anche io no no giuro ce l'ha portata una mica di mia moglie la pastiera che ha detto che sta mangiando la pastiera che noi c'è fede che dice la pastiera non mi ricordo perché sto mi sto concentrando ha detto la diplomatica buon amore voglio mangiare la diplomatica no penso che la diplomatica è un'altra torta però vabbè c'è ragione ci sta diplomatica un attimo mo sono in nono tieni aspetta che faccio il poste viene ma aspettate raga così passa chiaramente nelle gare reali succede questo è si ferma ci si mette un attimo in pausa e si va si 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 di Genova grande ci andiamo sempre a vedere il cosmo è a Genova l'acquario bellissimo è da covid il bordello madonna io ho tagliato troppo raga si sa c'era l'iPhone oh Brescia bella lì Brescia io sono a mità raga sono a Milano Varese varese eh oh c'è la live Kevin che mi sponda nel paletto ciao amici peccato volevo andarci eh però purtroppo la live è importante raga ok tra l'altro credo che stasera faccio gran turismo ancora sai Kevin perché è troppo bello troppe macchine e troppe cose da fare si si ciao amici di Twitch mi raccomando scrivetemi in live che vi saluto scrivetemi in chat che vi saluto in live scusate raga faccio confusione ecco sto correndo ho una pastiera napoletana davanti che mi abbastanza dice la pastiera ci sta ci sta poi riempie anche perché c'è dentro la ricottina la ricottina le riempie il pancino io facevo live anche su assetto assetto corsa competizione e sul formula 1 raga prima di questo mitico gran turismo che secondo me è spettacolare amici il primo non lo becchiamo porta iRacing iRacing è su PC però giusto? purtroppo io streamo da Playstation 5 dal Day One e da Xbox Series X che dovrei riuscire a far funzionare OBS che ho preso tutte le grafiche e tutto però il mio PC che è un i7 16 giga di RAM bla 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 non tiene va un po' scattucchi ma un po' scattucchi quindi allora ti volevo far vedere allora ho fatto la gara per l'amico oh per Ferrarino vediamo un attimo dai vediamo un secondino che non mangiare ah baciera vedete un attimino anche il replay di questo gioco fantastico ma credo che comunque voi giocate che buona raga che buona raga qui a Marco Drums Games che mia moglie se la ride è tipo casa eh è un canale famiglia almeno raga quindi si mangia si ride si dorme si scherza bella però eh bellissima tra l'altro c'è un sacco di livree allora voglio far vedere il farming su Expressway o come si chiama insomma Tokyo Express allora bellissima bellissima questa Formula 1 la macchina è la la macchina qual è ah hai visto bella bellissima la macchina qual è Kevin che passa che passa su quale è vista eh Tokyo qual è di Tom Tom Hawks quale è la X ok adesso allora ragazzi la Tom è la X eccola qua bellissima guardate raga dentro è spettacolare ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi che macchina che macchina la livrea è di un giapponese mi sembra è bellissima raga eh bellissima per il stesso ok allora volevo farvi no voglio farvi vedere un attimo il settaggio perché sennò poi non riuscite a farla allora Tom Hawks mi dai da bere amore non riesco a parlare mi dai da bere qualsiasi amore anche l'acqua e dimmi giusto grazie grazie deciso per l'iscrizione mitico 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 allora vi faccio vedere ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi vi sto facendo vedere come farmare facile su Tokyo ma amici miei voi potete usare tutte le macchine che volete i miei consigli per farmare veloce per avere i crediti abbastanza velocemente ma potete usare tutte le macchine che volete tutte le macchine sono belle tutte le macchine sono buone se volete farlo impegnandovi facendo i tempi e tutto quanto potete farlo se volete farlo easy ok per avere i crediti in 15 minuti fate un bel botto 825 mila crediti fate come vi dice il vostro youtuber preferito Marco Drumcakes ok Tomahawk X comprate tutto streamerino ah si streamatore twitcherino chiama come volete allora poi io ho preso le gomme dure e le morbide e le bagnato attenzione le intermedie e le bagnato pesante perché Tokyo sull'acqua ok adesso vi faccio vedere la messa a punto adesso vi faccio vedere la messa a punto e ho sbagliato dove andare a farvela vedere va bene scusa adesso vi faccio vedere la messa a punto e non c'entrava niente sono andato su un'altra roba ancora vabbè oggi non ci siamo ragazzi però oggi è festa eh festa comunque è festa oggi credo di sì semifesta 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 allora la Oceania Tokyo Expressway ciao amici dai dai state con me che in quarto d'ora facciamo 800 mila crediti e tra un po' andiamo a comprare la Ferrari da 20 milioni quindi rimanete sul canale o venite tra una mezz'oretta o un'oretta no dovete rimanere sul canale prefestivo grande grande è un prefestivo vabbè io sabato sono sempre a casa per me è sempre festa sabato domenica e andiamo a farci il touring e vi faccio vedere le impostazioni stasera sono di notte turno di notte caspita allora perché io streamo poco però se sei col turno di notte grandissimo snow vai a vederti tutti i miei video su youtube e su twitch così ti tengo compagnia se fai il lavoro che chiaramente puoi vedere le cose perché se fai il lavoro che non puoi no non ti faccio mica far sbagliare al lavoro per andare a vedere il grandissimo Marco Gramsci allora io vi faccio un più o meno certo grande snow poi ragazzi voi andate a vedere su youtube che ho fatto i video ad hoc ok quindi lasciate stare che ci sono tanti video guardate solo quelli di Marco Grams anteriore bagnato pesante posteriore intermedio questo me l'ha detto il grandissimo Kevin ti ringrazio Kevin per la spiegazione delle gomme qui c'è anche Kevin che c'entra regolazione potenza 70 limitatore 70 ti ringrazio sono già abbastanza secondo me 580 regolazione questo è un po' un problema infatti se poi guardate il video che farò dopo vi spiego come arrivare a questi settaggi perché dovete spostare prima uno poi l'altra poi l'altra poi ritornare indietro e comunque la postazione è 41 43 45 279 451 472 598 5150 perché questo? perché vi porta vi porta giù i punti prestazione ok? questi qua ve li fa arrivare 567 ok andiamo e vi faccio vedere la pista allora io prima non ho neanche cambiato le gomme non mi sono fermato ai pit e non ho fatto assolutamente niente l'importante è che non prendete dentro gli altri mettete subito su economico ok? allora cazzarola il cambio scusate il cambio manuale perché non potete mai scendere sotto la quarta la quarta sarebbe praticamente la prima porca i botti sono incredibili eh raga allora come vedete ho già superato tutti e adesso sono una questione di andare tranquilli ok? la quarta ai 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 è bello bagnato pesante ui 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 devo prenderci un po' la mano col bagnato perché ciao amici di twitch benvenuti ragazzi scrivetemi in chat così vi posso salutare hai stai disgraziato amore il ragazzo che si è iscritto prima saluta non l'ho visto che l'hai fatto fallo non fa niente allora bisogna davvero star tranquilli e frenare perché comunque non è come la Sardegna e dovete stare attenti perché ciao amici di twitch benvenuti stiamo farmando quella toma a expressway a Tokyo a Tokyo a Tokyo perché dico expressway che non è express e Tokyo express basta expressway non vuol dire niente way è via quindi credo 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 ok vedete se vado sottomarcia se vado sottomarcia è un disastro ma dato 10 secondelli di penalità anche se voi cannate ragazzi che state facendo altro mentre fate un po' di farming su sta pista problemi perché la macchina è talmente figa che potete anche sbagliare un po' perché se andate contro i guardrail contro il muro vi dà la penalità ok NOS R3 così si arriva un bel po' almeno un po' di velocità e adesso ne facciamo uno fatto bene ok ragazzi così farmiamo un po' di soldini e comunque vi ho spiegato come dovete mettere le marce ok così facciamo vedere il mitico snow orca loca e allora il discorso è che c'è giù l'acqua bisogna entrare un po' in sintonia con la macchina e vi dico perché sinceramente ci sono dei punti dove gira che c'è l'acqua e vi trovate un po' difficoltà e bisogna frenare allora all'incirca 1,38 1,42 al giro ok se va bene ho fatto tutto giusto bisogna frenare perché qua non ho capito per qua perché c'è giù l'albagnato non frena lì raga lì non frena turbo ah penalità che barba ok vai di nos sono 12 giri all'incirca 1 minuto e 30 a 1 minuto e 50 all'uno 825 mila crediti ok allora attenzione perché la pista è bagnata se andate a sbattere vi dà la penalità grande sì sì uguale uguale praticamente abbiamo la stessa la stessa postazione e lo stesso giochiamo uguali io addirittura forse a differenza di te che non mi ricordo le piste ci sono finisco il game grande 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 manuel pensa che ho dovuto far vedere dei video manuel agli amici a snow che adesso aveva bisogno non ha bisogno gli ho fatto vedere come farmare qui su Tokyo e comunque ragazzi anche tu snow se vuoi giocare con noi si può fare tranquillamente perché marco drums games vuole assolutamente giocare con gli amici di twitch ciao ragazzi iscrivetevi in chat così vi saluto e se volete giocare con me fate l'iscrizione al canale e datemi il vostro id della play eh se vuoi giocare con noi no tranquillo eh possiamo giocare anche insieme adesso infatti facciamo anche una sessione che giochiamo insieme quando vuoi quando puoi se vuoi se ti interessa me lo dici se non ti interessa invece viene a vedermi che mi fa un sacco di piacere visto che abbiamo anche il G29 identico ciao amici e benvenuti mia moglie fa sempre un casino incredibile non usa l'auricolare si sente un bordello ok ok andiamo a frenare allora normalmente con un altro auto perché potete farla con qualsiasi auto sicuramente vi dovete fare il pit gomme e con questa macchina non vi fate neanche il pit gomme tra l'altro grande grande snow dai allora io ho visto che probabilmente cioè intanto mia moglie fa un casino incredibile non capiamo più niente niente amore facciamo che gioco online anche stasera grande snow e se ti va visto che c'è anche l'amico kevin ci possiamo fare anche un'altra giocata stasera se l'amico kevin gli va perfetto sì intanto facciamo quello retta no kevin no dico c'è l'amico snow un altro ragazzo nuovo che è al g 29 anche lui e usa l'impostazione come me col cambio manuale ma col tcs no infatti dovrei arrivare tra ventina di minuti beh poi tra venti minuti penso che siamo ancora dentro giocare o al massimo che vada stasera se ci sei io farò live anche a pasqua ragazzi perché alla fine noi non andiamo da nessuna parte stavo quest'anno che stiamo a a casa in famiglia a divertirci quindi vi faccio delle belle live tinette di pasqua e anche di pasquetta la pasquetta vabbè la mattina pomeriggio no siamo a una mega grande grande no sì allora mi cerchi come marco druse o il mondo di lite di little big planet il mondo proprio come immagine o la fiamma del mio canale il mio logo con la fiamma uno dei due se me lo mandi tu ti ringrazio che poi accetto e ti metto nel gruppo amici di twitch così tutte le volte che faccio l'online basta che entri nel party amici di twitch che vuoi giocare con noi e possiamo giocare tranquillamente perché più siamo ragazzi più le live diventano divertenti e anche diventa divertente giocare insieme allora noi siamo un gruppo come hai visto dalla mia live che ridiamo scherziamo non è niente di mega competitivo grandissimo snow e non devo dimostrare di essere più bravo nessuno ma mi diverto tantissimo con questo gioco mi diverto tantissimo a a giocare con voi e a ridere scherzare quindi le live anche quando andiamo a giocare insieme sono serie perché non è tutto sportellate non è che dobbiamo fare cose però insomma qualche sportellata o o la gara a giocare simpatici col simbabus ce la facciamo molto volentieri ok e che porterai gioco sul telefono ma quale quale scusa scusa non quale gioco sul telefono fede giochi ok allora mi fai un cast cast astro push 41 allora riusciresti a mandarmela tu grandissimo che io sono marco drums se no dovrei andare poi a ribeccarmi la live vedere quando è scritto e mandartela guarda se poi mi fai una cortesia tanto quando poi arrivi che che vieni dentro a giocare mi cerchi marco drums games me lo dici in live io ti accetto subito se no poi ti vengo a cercare io però dai amore anche a me servono delle telecomandi eh eh si le AAA le AAA e le AAA servono di batterie ragazzi no devono andare a comprare le batterie dei telecomandi perché mi hanno finito tutte le batterie dei telecomandi c'è mio figlio che è venuto su vai amore eh si mi servono le batterie no però vi devi dare un bacio amore saluto a tutti gli amici eh ciao amici torniamo stasera si poi Carla ci sarà stasera e ti fai la partitella stasera mo eh si stasera correrà anche mia moglie raga eh ciao mamma ecco qua guarda anche mia mamma un bel caffèrino in realtà no tra un'ora finisco si un bel caffèrino dai ci beviamo un caffèrino insieme dopo la pastiera eh 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 raga un caffèrino ci sta vero o no Kevin eh si si allora ragazzi come vi ho detto il mio canale è divertente e familiare quindi gioco con tutta la mia famiglia giochiamo prevalentemente a gran turismo si esatto Marco Drums senza games però Marco Drums Marco Drums si poi nel non ti trovo no come è possibile come è possibile come farmi trovarmi aspetta aspetta che te lo faccio vedere one second eh allora PSN ti faccio vedere aspetta forse l'hai trovato vabbè ti faccio vedere lo stesso con il mondo bravissimo è lui hai visto che mi hai trovato grande è impossibile non trovare il grandissimo Marco Drums vabbè games diventa nel ok l'hai mandato bravissimo adesso appena finisco la gara ti accetto subito e ti metto nel gruppo del party ok poi se vuoi usare il microfono entrare parlare va bene se no poi anche giocare basta ecco quello che volete voi ragazzi si può fare perché io comunque l'audio lo condivido nella live quindi vedete voi se volete anche farvi sentire eccolo qua che è arrivata adesso la richiesta dopo te l'accetto visto che c'è il mitico Manuel e il mitico Sharder Sharder ci sei ancora amico mio adesso veniamo eh tu stai parlando con Sharder mi dico Kevin? no no non c'era ah non c'era più Sharder siamo in tre allora Kevin io te Sharder in teoria ahiaiaiaiai sbagliato 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 scusa per leggere raga allora praticamente la prima e la quarta eh se fate questa cosa la prima, la seconda e la terza sono inesistenti come marcia allora in teoria siamo in 4-5 quando arriva anche l'amico Snow eh però per adesso sì penso che siamo solo noi tre bella ma ci può fare eh ehm devo vedere normalissimo ciao ragazzi ciao in circuito è una parte che conta extra eh figo beh dai diciamo che adesso dobbiamo conoscere Manuel nuovo e Snow quindi possiamo tranquillamente farci delle garettine così dopo quando diventa che ci troviamo più spesso è più interessante ma lì sarebbe interessante davvero che sia il gioco a farci tipo i coi punti no così almeno è non dobbiamo stare col foglietto sinceramente non si può fare online il campionato e sarebbe bello ha senso proprio nel campionato fare che conta i punti sono che senso al campionato o che cominciano i doppiati o che cominciano i doppiati che mi vengono addosso e allora allora alla fine dovete stare molto attenti perché perché dovete stare molto attenti perché ragazzi ma cosa facciamo la pizzetta stasera allora già che va il giga poi la dieta la cominciamo lunedì dai bella brava ok ok ragazzi posso iniziare la dieta lunedì sono l'uomo più felice del mondo dai quelle feste ragazzi con le feste non si è vista che si deve fare la dieta con le feste con le feste si deve mangiare dopo dopo si fa dopo no ok mi ha passato quel valore allora finisco qui ragazzi e facciamolo online e manuel anche tu che vi tu sei già su grantu o sei ancora su star wars il bruciatore di come ecco che è arrivato sharder dai cerai la parola della pista io faccio i quattro giri e arriviamo sharder devo mettere dentro il mitico manuel nel gruppo se non l'ho già fatto di the party allora manuel dopo quando vado a metterti nel party mi ricordi come fai di nick scusami ma io non mi ricordo mai niente non è che lo faccio a posto è proprio così eh grazie manuel perché sinceramente ecco sharder che è arrivato è arrivato in tromba va che ti buco le gomme sharder allora ragazzi sharder è un amico di twitch che è arrivato ha seguito il canale di marco trans e adesso giochiamo insieme gli buco le gomme tutte le volte perché va troppo veloce sharder sharder è esagerato esageratissimo allora gli bucchiamo le gomme così va un po' più tranquillo allora sarà un po' un casino vedere la macchina allora noi cosa facciamo impostiamo i pipì eh giusto sharder vediamo un attimo di impostare in base a tutti quanti pipì hai ma Carla stasera ci sono non è che mi fa bannare no vai tranquillo no no Carla non ti banna stava solo scherzando stasera c'è anche Carla che gioca eh però se giochi contro Carla ti conviene non vincere io te lo do come consiglio poi fai tu eh Kevin eh si gioca con Carla e la batta ancora mi sa che il banna arriva a sicuro eh ah beh è una fortuna che è simile eh infatti eh ti conviene è un consiglio eh poi vedi tu se vuoi proprio vincere sempre con mia moglie eh del tuo rischio pericolo il tuo rischio pericolo ok ragazzi oi 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 ah ma che è andata ma ha fatto il gallo 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 mi ha fatto le scarpe eh sì quanto devo mettere infatti io chiedevo a Manuel che tipo di macchina aveva Manuel come pipì cosa come come sei messo dici tu un range massimo di pipì così poi scegliamo le macchine in base ai punti prestazione perché pipì vabbè detto brutto però bravo bravo Sharder no ho chiesto a Manuel che pipì aspetta che guardo bravo bravo così Sharder fa già la lobby che lui ormai è diventato il lobbatore quello che fa la lobby il lobbatore è bellissimo eh ah fai così fai niente modifiche dai bello bello ci sto ci sto vuole fare? no senza modifiche così siamo tutti uguali uguali 760 a Manuel fai un 770 di massimo che non si può andare oltre quello e metti tutto che sono tutti uguali senza modifiche senza quella roba lì almeno siamo tutti più o meno pari dai poi vabbè chiaramente uno può mettere la macchina che vuole almeno che se ci facciamo la prima con Simbabu sa due giri io direi sei giri ragazzi le piste eh Kevin a sei giri lo facciamo o meno? ci sta a sei grazie mamma grazie 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 saluta gli amici bravissima cinque giri dice Manuel eh fai cinque fai cinque giri grandissimo Sharder mamma mia adesso che c'ho il caffè qui che sennò mi si ribalta devo andare piano ragazzi adesso devo aspettare il mitico Sharder che mi dice di sì no cacchio allora ragazzi il problema è che che se faccio troppo destra e sinistra col caffè mi si ribalta il caffè ho già fatto l'esperienza del caffè sui pantaloni e non è proprio il top eh quindi sto correndo un po' malino perché non c'ho voglia di avere il caffè sul pantaloni ok e poi come vi ho detto è easy easy e quindi non io non sto neanche correndo sinceramente perché poi vi da la penalità se sbagliate ma potete usare qualsiasi macchina qualsiasi cosa si metti però 7,62 magari perché se lui ha 7,60 poi tu fai 7,60 magari non lo fa entrare ciao amici di Twitch e tra un po' andiamo online con gli amici di Twitch che siete voi grandissimi rimanete a guardare la mega partitella online che facciamo e se volete giocare con me con noi iscrivetevi al canale Twitch e buon caffè a tutti e non c'entrava niente scusate ah che bello giocare a Gran Turismo a 300 all'ora e bersi un caffè e se volete giocare con me vi do il mio nick così ci possiamo scambiare di lì della play e quando vado online e gioco online con voi potete entrare tranquillamente sia nel party anche parlare ma anche solo entrare a giocare senza voce niente senza problemi qualsiasi roba così ci divertiamo tra di noi ragazzi e riusciamo basta dire la categoria quando metto potere alto senza cambiare e uscire ah ok la pista facciamo quella della solita del la dragon dragon lago vabbè dai cominciamo col dragon magari dai se volete oh sono andato a sbattere sul muro all'ultimo giro metti gr3 dragon bravo bravo manuel vedi che anche lui voleva la dragon bella bella mi piace gr3 dragon allora usiamo la lambo kevin eh si senza settaggi no io quasi allora uso la mitsubishi sai si è bella come è no se non è settata non la tieni in strada ok manuel grande bella charter dai dai che ci divertiamo il grande film oggi non c'è che è andato in vacanza se no c'è anche lui anche lui tieni le modifiche ma c'è la play in vacanza eh? il film? il film c'è la play in vacanza? eh no credo di no è andato su in trentino si? no prima era online quando è entrato dentro a salutarci e ha detto che tra un po' le quattro e mezza cinque e così partiva è ancora online? adesso? mh cinque cinque e mezza forse va a far passare la pasqua in trentino mi sembra di aver capito già scritto e forse perché si faceva qualche garetta così mi sembra che l'ha detto proprio si faceva qualche garetta così allora gr3 con limite pp 6.72 dai io ho finito ragazzi andiamo a prenderci i nostri bell 7.62 825.000 ragazzi ok? allora facendo un'altra gara compriamo la mitica Ferrari però la faccio dopo ok raga così possiamo giocare un po' online ok amici allora andiamo a cercarlo online allora Emanue cosa fai di Nick Playstation? scusami nella Snow eh no Snow mi ha dato l'ID l'invito aspettate raga scusate sentite solo la voce adesso perché eh sono andato nel Playstation no Astro si chiama le cuffie le cuffie si come le cuffie allora richiesta ricevuta accetta allora Astro Q41 quindi amici di Twitch aggiungo ok lui credo che non c'è adesso Astro perché ha detto che doveva venire ancora a casa bastro c'è una cosa sott'occhio si vedo i poti che vanno con le gomme medie e premorbide davvero? si si aspetta un momento a cambiare le more aspetta quella quella dura da gara avvito perché mi dice che non c'è nessun giocatore che si chiama così? Astro con la A maiuscola dici che conta A maiuscola e minuscola quando cerchi un nome? no 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 Astro allora solo il secondo ragazzi non andate via che sto solo cercando ah ecco la H ok infatti Marco ok perfetto davvero? senza il bagnato? si si sono un tot giro non c'è più bagnato ah allora fai un po' fatica all'inizio beh io mi trovo benissimo così comunque ti dico la verità non è che c'è proprio bisogno di manuel si uso quella lì mi trovo benissimo magari non vai proprio velocissimo ecco quello si quello si però quello si può essere bagnato e il stesso asciutto eh si infatti quindi quindi o magari mettere la dietro dura e e davanti bagnato però ti cambia i pipì sicuramente ciao amici di Twitch benvenuti ragazzi cambierei pipì eh eh secondo me manuel ultra ok adesso ti allora vediamo se sei dentro nel party scusate ragazzi vi ancora un secondo la allora vediamo se ti avevo già giunto questo allora scusami adesso ti aggiungo manuel ultra tu Kevin quando ci sei si sta facendo un giro si allora manuel manuel ultra è tutto attaccato manuel o c'è tipo i trattini ah ok manuel trattino ultra perfetto scusami eh perché guarda non mi ricordo mai niente quindi infatti pensavo già di averti messo dentro ma invece non ti avevo messo dentro nel party dopo ripeto sempre ragazzi se volete mettere l'audio il microfono va benissimo se eh non volete eh entrate solo a giocare con noi e basta ok ti ho ti ho messo dentro eh nel party allora mostriamo le stanze degli amici eccolo qua vamos speriamo amici che ci fa giocare perché la settimana scorsa abbiamo provato è stato un disastro un disastro ok grande manuel ciao 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 grandissimo bella lì bella allora di solito quando entra qualcuno poi c'è tipo un audio eccizzato eccizzato allora comunque io non ce l'ho abbastanza bravo bravo no non sento abbastanza bene però a volte mi dicono che su twitch si sente un po' si sente un po' con l'eco no anche io adesso nel party sento eco eh vedi? si c'è un eco oh sai che non riesco a capire come mai fa eco abbiamo tutti l'auricolare con le cuffie o le cuffie con il jack insomma senza non c'è audio nelle televisioni ma purtroppo fa sta cosa bisogna abbassare il volume delle cuffie perché perché rientra dentro dall'auricolarino che c'è bravo bravo aspetta che provo subito orca miseria cosa ho fatto sono uscito dal gioco scusate ragazzi allora aspetta eh audio audio dispositivi controllo del volume cuffia volume cuffia la basso un po' però poi non vi sento vediamo è meglio? va i ragazzi ciao tutto bene ciao ragazzi allora un pochettino ancora un pochettino ok allora lo deve fare qualcun altro allora killer a bassa l'onto dopo abbassare un pelino che vi e sharder non lo sento io sharder non c'è nel party ah non c'è nel party sharder entri nel party o Stai fuori, ma perché a volte sta fuori Così è meglio? Così non si sente già Poco, poco, poco Dai ci sta Ebbè poco, poco va bene, va bene Non siamo troppo esigenti Allora I pipì non ci sono io Abbiamo detto quanti pipì Scusate raga che non me lo ricordo 7,62 7,62, 27 me lo fa fare O è cane che no Sì, è 26,27 me l'ha fatto fare Allora io però ragazzi Ho una certa età e sinceramente Devo alzarlo un po' perché non vi sento assolutamente niente Ok Ok Faccio solo un pelino Così almeno non fa eco Ok Ok Ecco Come Ma Sharder è dentro qui però sì Sì Ok Va bene magari non ha la possibilità di mettere il microfono Quindi Fa niente L'importante è giocare Non lo vedete Nel party Forse non può parlare Non lo so Comunque va benissimo Tanto si può anche Fare le gare e divertirsi Senza Senza che Senza parlare Però Diciamo che vengono detto No perché Si si diverte un po' di più Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Ok Ok Ma vediamo un attimo di fare qualcosa di decente Ho preso la Mitsu Anche se io qui andavo bene col Ferrarino Però diceva il mitico Phil Che è un altro amico mio di Twitch Che questa viaggia forte su sta pista Tu che macchina usi Grande Emanuele E una sopra La concept del 2018 Bella Ma e via 7 e 20 No Si 7 e 20 Con questa Con questa Mitsu Non è che mi sto trovando bellissimo Oh Eccolo Shader Grande Ciao amici di Twitch Stiamo giocando online ragazzi Con voi Se volete giocare con noi Iscrivetevi al canale Lasciatemi il vostro idea Facciamo delle live Che giochiamo insieme Vedete Faccio un pezzo offline Un pezzo online Ciao mitico Ciao Ciao C'è il mitico Manuel oggi Grande Shader Allora Manuel devi capire Che bisogna bucargli le gomme a Shader Ah non c'è problema No Bravo bravo Intanto bisogna vedere se Se mi sta davanti Dai grande Dai 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 Allora io sto per un Ultimo Io sto per ultimo Senza pretese Allora Sicuramente Sarai davanti a me Io sono dietro Io ve lo dico Non ti va Non si può Non si può Non si può mica Far sempre Allora io Con questa Purtroppo devo andare a fare una commissione Stasera sono a lavorare Se siete a Pasqua sono libero Oh grande Snow Io faccio anche Scusa Manuel Rispondo a Snow che deve andare Tranquillo Snow Io ci sono a Pasqua Ok Perché si mangiamo in famiglia E non vado da nessuna parte Sinceramente non c'è neanche voglia Quando ci sono due o tre giorni liberi C'è una gran voglia di stare a casa Io giocare Divertirmi E quindi Io sono in live anche domani a Pasqua E anche a Pasquetta Il pomeriggio Quindi si Oggi non ci sei Non c'è problema Al massimo collegati in live Così Chiacchieriamo un po' Stiamo un po' insieme E poi dopo Giochiamo domani Senza problemi Poi magari c'è anche Manu Il Shard Insomma Poi dopo vediamo Se riusciamo a fare anche una live Perfetto Perfetto Ok Prende domani Domani pomeriggio Già non ci sono Magari la sera Tanto guarda Voi fate così ragazzi Così almeno lo dico Sia in live Che per chi vuole giocare E anche voi che siete dentro Quando mi vedete Che sto giocando Entrate nella live Chiedete Se Faccio L'online Ci mettiamo Tanto ci vuole un attimo A fare la partita online E giochiamo online Perché a volte sai Manu Devo fare delle cose Mi metto in testa Che devo fare i credit O devo comprare le macchine Voglio provarle Non vado neanche online Ecco insomma Tanto per farti capire Invece a volte Mi piace proprio giocare online Sì sì Ho capito Tipo Venerdì ho comprato tipo 20 No 16 milioni di macchine Caspita dai Non puoi una sera Far fuori 16 milioni di macchine E non provarle Ho dovuto provarle tutte E adesso voglio comprare La Ferrari Quella da 20 milioni Ciao 19 milioni E qualcosa Quindi dopo Quando finiamo qui Faccio un'altra gara E se Se rimanete In In live Ragazzi Vedete E la 250 Su il mitico Marco Drums Games Che spende 20 milioni Nozzi Per voi Ok Io sto girando I miei tempi Non sono Un granché Manuel ha fatto un bello 1,38 1,39 Bravo Sbagliato Ho sbagliato Delle curve Sono uscito Adesso vediamo Se entra anche Il mitico Kevin Perché Kevin stava farmando Un attimo Tra l'altro Vedi che Proprio non lo faccio Opposta Manuel ma Non mi ricordo Pochissimo Tipo ultimamente Gli ultimi 2-3 anni Della mia vita Ho perso Tutta la memoria A breve termine Ma proprio persa Eri tu che mi chiedevi Prima del farming O rasno Chi è che me lo chiedevo No non ero io Ah ok Vedi che non mi ricordo niente Ah no aspetta Farming si te lo stavo chiedendo io Ah ok anche tu Ok perfetto Era Tokyo no? Che chiedevi di Tokyo Sì bravo Che ti chiedevo Come fare un milione Senza però La macchina Ah ok 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 Quindi grande film Poi ci ha detto di andare su Daitona Ecco su Daitona Bravo Ecco Perfetto Allora Sì che poi su Daitona Puoi usare anche Penso Ah no no Questa macchina Che stai usando adesso No perché non è americana Giusto? È cinese Giapponese No no non si può Beh a parte che ormai Tutte le macchine Sono cinesi Però fa niente I pezzi di ricambio Ormai Cioè i pezzi li fanno io Ormai Sono proprio adulti Eh sì Cioè Non vengono magari Assemblate Ma Ormai è tutto cinese Mamma mia Oh che tempi 1,38 e 1 Grande Allora io sto facendo 1,41 Raga Quindi Paga 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 Oggi Marco Dranz Paga da bere Ultimo Io aspetto Il tempo di Sharder Adesso dovrebbe entrare Neanche il mitico Kevin Se non sbaglio Che ho sentito Kevin Avevi detto che entri Sì Posso ancora dietro Ok Allora io sto guidando Questa qui Ma sinceramente Adesso vediamo Un attimo il tempo Forse prendo il Ferrari Il 400 Quello là Come si chiamava Qual era quella Che abbiamo fatto L'assetto Kevin 458 No Ma A Mitsubishi Mi piace È veloce Il Mitsubishi È velocino Però vedi 1,40 1,40 Forse perché ho sbagliato Vediamo un attimo Magari Era per quello Non per la macchina Appena l'ho detto Sono andato a spazzere Bellissima Grande No No Ecco Te l'ho detto io Hai voluto imitarmi Manuel Hai voluto imitarmi Caspita Ho una voglia Impressionante Infatti se non giocavamo online Adesso dovrò fare Le esperienze sul circuito No no Esperienze sul circuito Non le ho mai fatte Perché Sai Andando in live Così compro le macchine Vado online Faccio Le man Poi quello che mi chiedono Della gente Gli amici Entrano dentro Prova a fare Non so come Prima o meno Chiesto di fare La formula 1 Federico mi sembra E allora capito Non riesco mai E ho una voglia In matta Di fare le esperienze Sul circuito Perché lì proprio Ti devi mettere Alla prova No devi proprio Far tutto fatto bene Come le patenti Insomma Che che sta facendo il giro Sharder Rosti Sta facendo il giro Ma cosa A battere A mio tempo 138 186 L'alfa Che è questo qua Che è fuori Ah sei tu Scusami Non volevo Non volevo Ma di buono Intanto stavo aspettando Qualcuno Eh eh Si lo so Però non volevo lo stesso Eh è proprio Adatta È stato accentrato Da solo la macchina Oh no niente Che macchina è Che è Chavi Senza settaggio E' uno schipio Grande Grande Sharder 1.39 Ma tu che volante usi Manuel Pad Ah grande Minchia se vai sul volante Se vai sul volante Chissà che tempi fai Allora Bravo bravo Parlando di adesso Di come è il gioco Sei molto più veloce Col pad No davvero Yes Quindi Se usi il pad È molto meglio Cioè sei molto più veloce Da che col volante Anche da fare le prove Dici Sì sì È proprio il gioco Il gioco adesso Sei molto più veloce Col pad Oh porca miseria Ma è perché la sensibilità forse O come risponde Puoi essere molto più reattivo Sulle curve Cioè Tanti lo dicono Che è meglio il fatto Caspita Cioè poi sarei io Il volante Ovviamente uso il volante Però Allora Diciamo che il volante Hai pro e contro Te lo dico subito Perché io prima Correvo sempre col pad Allora Il volante Come pro È che sembra Che stai veramente guidando Cioè C'è poco da fare Cioè Col volante Ti sembra di essere in pista Di contro Ti stanchi Perché ti dico la verità Che io arrivo a volte A fare il live Di 2-3 ore Mi alzo C'ho mal di schiena È incredibile Perché comunque Anche il pedale Se prendi un volantino Di quelli belli O il G923 Della Logitech Poi ci sono anche quelli Oltre Il Trussmaster Sì sì no Questo è già bello Perché ha il True Force E quindi ti fa proprio sentire L'asfalto Anche le asperità Tutta la roba Non è solo Force Feedback No E poi ci sono Vabbè Il Trussmaster Da 700-800 euro O il Fanatec Quello che hanno fatto il GT Che si viene sulle 900 Quindi vabbè Di sei veramente Su Su altri livelli No Ma veramente Fai fatica E E poi Secondo me La reattività Che hai Di girare il volante Schiacciare l'acceleratore Freno Non puoi avere la velocità Che hai sul Pad Il Pad è veloce Punto e basta Come dicevi tu Il Pad è immediato Qui devi comunque Girare il volante Quindi comunque Un po' La perdi Secondo me È un mix Insomma Però Il volante è molto bello Ti sembra proprio Di essere in pista Sì Io adesso L'ho messo in sala E perché mia moglie Non mi rompe le scatole E bravissima E corre anche lei Se no sinceramente Magari sai Ce l'ha in sala Dici no Guarda che devi metterlo via Tutte le volte Devi avere posto Il volante non è piccolo Capisci? Sì Più Una base Dove metterlo È capito Io ho preso un supporto Che ho comprato su Amazon Molto bello Con un centinaio di euro Che ne compri uno bello Bello Che non si muove né niente Begli tubi Belli stabili Però è grosso Ti faccio vedere Non ci sta dietro una porta Cioè devi proprio avere Un posto per tenere il volante Non tutti ce l'hanno Capito Oppure magari lo comprano Lo mettono sulla schivania Ma puoi capire Che la schivania Non è mai Come Come avere L'impostazione giusta Poi io corro sul divano Perché sono qui in sala E anche quello È un po' Che mi spacca la schiena Perché in teoria Bisognerebbe avere Le postazioni quelle fighe No? Quelle che hanno anche Il sedile E lì ancora Lì praticamente Si mette una postazione Di quelle A parte il costo Che uno dice Vabbè se non compro Tanti giochi Mi compro la postazione Un gioco solo All'anno Te lo compri No? E più che altro È metro Lo metti Su quel robo Lì con il sedile Che è lungo due metri Cioè capisci? È un casino Cosa si fa raga? Aviamo Aspetta un attimo Che devo fare un attimo Giro che non ho neanche trovato La pista La macchina sinceramente Allora io volevo fare Segura Mitsu Volevo provare con la Ferrari Secondo te non Cosa dici? Sa le stesse cose Ma Il mio amico Penso che ti trovi Eh perché Mi trovo benissimo Ti dico la verità Perché comunque 1,40 non è male Come tempo Cioè lasciato stare 1,38 che è stato Bravo Manuel Ma 1,40 Non è malvagio Però mi va Un po' Chi poi è presente Quando c'è Gli ammortizzatori Scarichi Quando vai a destra e a sinistra Fa un po' Sbalota un po' Allora Quelli no sono Gli ammortizzatori Eh ma Dovrei avere quelli da forza In teoria Non so Oh 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 Calmi tutti 1,39 0,29 No no Aspetta un secondo Aspetta un attimo Fammi fare ancora un paio di giri Aspetta un attimo Oh 1,39 0,29 Quando stavo cazzeggiando Eh raga Stavo dicendo Che volevo cambiare macchina Aspetta un secondo Facciamo un altro giro Poi partiamo 5 giri fatto Vero Ok bravissimo Voi avete scelto La vostra macchina Raga Ah io questo Ok Tu che cos'era Emanuele Che non T'ho visto passare Ma era una Mercedes Ah La Toyota Ok ok Sembrava la Mercedes Perché mi sei passato davanti Oh 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 Stai calmo Non volevo che Ve la facevi vedere Mi ti davo Che era la Toyota Eh tranquillo Oh ma che voglio No dai C'è andato fuori Ti ho seguito Grande Madonna L'online Comunque Ha un po' Di problemini Nel senso che scattucchia Cioè io vedo La macchina tua Non è che va giusta Bella lineare Tipo scattini Anche voi Vedete Così Mi manda il cervello Impappati Di quella verità Perché uno E di che Vedete Uno che scattucchia Davanti Oh ti sto dietro Ho cannato Quella linea Mi hai dato Mi hai dato gas Dai 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 Arrivo Questa qui La fai in seconda Tu L'hai fatto così Per farmi passare O perché L'hai cannata No Farti vedere A mia velocità Ah ok No perché pensavo Che avevi fatto passare Ma vai Ma vai più veloce Di me Oh scusa Scusa Non voglio Prendere Porca miseria Però sono andato fuori Come un citrullo Ma sai che ce l'ho anch'io Quella sopra lì Hai la CR4 Ah non è quella Questa com'è la tua Bella sportella tazza E qual è che è la tua La concert Ah la concert Vabbè la vado a comprare Del 2018 La no Quella lì che hai pure tu Che c'era pure io Col turbo Del 2015 Se non fai Ah ok Quindi questa è quella dopo No no Ma la vado a comprare Ma la vado a comprare No questa qua Da il 2018 2018 Vado a comprarla Ma ascolta una cosa Ma è come un po' la Mitsu A tenerla in pista Più o meno lo stesso È stabile Come non so che cosa Perché non posso uscire adesso Comprarla E venire Ci metto troppo tempo Ma la prossima volta La compro La compro Mi piace Mi piace Mi piace anche esteticamente Se fai questa Questa chicane qua Con la tua Devi scalare almeno due marce Questo è il fondo Manco freno Basta che scala una marcia E faccio la curva Oh hai sgommato Hai sgommato T'ho visto sgommare Ah si però La faccio Molto più veloce Eh si infatti Mi stai dando via C'è la live Che prova C'ho le prove io Ok aspetta Grande Dai Venimi dietro Io non mi trovo Sai poi a volte Manuel La problematica mia È che O mi ricordo la pista O mi ricordo le marce Tutte e due le cose Non riesco a fare Credibile C'è le scritte sotto le marce No 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 Non le cambio Non le cambio Perché sto parlando con voi O sto facendo le cose E mi dimentico di cambiare la marcia Vedi tipo adesso Frenati più qua Eh Eh no Questa l'ho proprio cannata A bestia proprio Allora vediamo un attimo Dai marchito Ragazzi ragazzi Ciao amici di twitch Qui l'ha preso a pieno Qui la tua in partenza Ha più coppia Della mia Ah vedi Porca miseria Qui ho cannato però Ah quindi tu mi dici Che da 0 a 100 Ti do via un po' Però tu vai via dopo Poi da 100 in poi Ti ritrovi già dietro Questa la prendi in quarta tu? Sì in quarta Ok Adesso poi apri quinta Giusto? Sì Giù tutta quinta qui E poi da qua Sesta Sesta Adesso E poi la fa seconda vero? Sì fin qua seconda Oh 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 Io metto anche la prima Vabbè Quando sto frenando Metto la prima Così almeno mi ferma Mi ferma Mi da un po' di freno in più Ah metti anche la prima? Ah questo non lo sapevo Prima poi metto subito la seconda Ok solo per darti il freno Per dare un po' di freno motore Sì per darmi un po' di freno Ma non c'è tanta differenza Eh sì guarda qua Cioè sono in quinta Ti sono attaccato eh Però tendi a darmi via eh Sì perché Già quanto è la scia Qua la fai lunga Eh sì lì l'ho fatta lunga Poi vedi io mancodo qua dietro E già adesso di qui Eh eh sì sì Certo adesso Metto la sesta E ti muocava come vai Qui devo ricordarmi Adesso devo frenare Tu la fai sempre a lunga No stavolta no dai Era lunga Stavolta sì L'unica volta che l'ho fatta bene Ho visto Stavi facendo la staccata del secolo T'ho visto già in erba Anche questo l'ho fatta abbastanza Non troppo benissimo Ma potevo farla un po' meglio Scalo quarta Qui dipende quanto freni Porca E qui ero già in quinta prima L'ho presa un po' a cavolini di Bruxelles Però Voglio fare un po' di garello Con il shard Ma con la vizu non riesci Con la sharder qui Con la lambo fa Paura Non riesci con la lambo oggi Eh devo abbastarla di Di pipì Che sembra una parolata Non c'è una parolata Sembra pipì Ma c'è Pi punti prestazione Non è una parolaccia Infatti No infatti Effettivamente non è neanche una parolaccia pipì Allora che ho gli altri Stai con me Vabbè In mani mia Non posso Ah beh Non dirlo a me Allora ragazzi Io sono Sì infatti Quello che fanno gli altri Sempre il top 1 39 0 79 Raga Eh fai il 31 Dai Sì no Mi trovo neanche Mi provo un po' Mi provo Mi esco un po' Mi esco un po' Mi esco un po' Vai provo un po' Il passo gara Vediamo No lo canata Lo canata No Brutto 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 39 0 29 È il massimo All'ottavo giro Fatto raga No sono veramente contento Di me stesso Forse devo allungare Un po' Le marci Sono troppo corte Non hai Velocità Eh no Perché arrivo con la sesta Che sono già L'imitatore Aspetta che te lo dico un tio Ma mi sa anch'io Arrivo con la sesta L'imitatore Ciao amici di Twitch Benvenuti ragazzi Scrivete in chat Così vi posso salutare In live E se volete giocare con me Poi ci scambiamo Mi dici Playstation Ah questo io non lo faccio mai Vedi Di scalare in prima Porca Però ho scalato troppo Sono andato a sbattere Scusate ragazzi Sto facendo un po' di esperimenti Ho fatto il giro Un bello tosto Prima Adesso faccio schifia Devi cercare il punto limite Della macchina In ogni curva Da per tutto Sai qual è la mia Problematica È chi a me piace troppo Le macchine Quindi Le cambio troppo spesso E quando cambi troppo spesso Il mezzo Non riesci mai a Capisci quello che voglio dire Non riesci mai a capire bene Un veicolo Questo è bello veloce Da guidare Mi piace Il mizu Però voglio comprare Anche quella che hai detto tu Eh Sì Da Hyundai hai detto No Toyota Ah la Toyota Toyota quale? Concept del 2018 Sono le ultime Sono le ultime Sono le ultime Quella da un milione No Quattrocento mila Buono lo so Dopo vado a vedere Dopo la vado a comprare Dopo stai live Che la vado a comprare Tanto faccio un paio di Tokyo Expressway La compro e la elaboro tutta Non è che ci vuol tantissimo Niente oh Charter appena ti supero Hai già Pallorato Kevin Che vi passa anche tutti i settaggi Grandissimo Giochiamo sempre spesso Online insieme Con la McLaren Dopo una po' di mattina Che non mi trovo Neanche un po' Fatto anche lo dire Poi lo stavo Sì Facciamo ancora un paio di giri Poi andiamo Dai Sennò poi diventa noioso Ne facciamo una Poi facciamo un'altra pizza O Vediamo Comunque sto Viaggiando abbastanza Quindi Penso che gli amici Anche di Twitch Stanno vedendo dei bei giri A parte qualcuno Che è dato contro il muro Marco 1.39.6 Caspiterina Dai dai Vi devo impegnare Sì anche a me Va a limitatore Comunque Vabbè Tutte le macchine Vado a limitatore Ma io dico Una volta che io Metto poi la sesta Due tre secondi E poi sono subito A limitatore Beh due tre secondi No ma quasi Anch'io Comunque Se vedi la live Quando sono andato lì Il pezzo dritto Appena metto la sesta Non è che ci mette tantissimo Andare lì C'è nei base La Mitsu Di marcia è tutto Sì 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 C'è comprata E ho comprato tutte le Le cose Ma non ho fatto nessun Settaggio Anzi Se tu hai dei settaggi Fighi per la Mitsu Poi me li passi Faccio anche un bel video Su Youtube No Non uso la Mitsu Ah ok Uso BMW Nissan E' la Toyota E' la Toyota Ma Toyota E' qualche settaggio Stratidissimo Che puoi passare O E' la tua Per la Focus SR Se fai tipo qualche Campionato con autostradani Tipo lago maggiore Ti posso passare questo Oh Beh Sì che io Cosa farei Cosa faccio Ma infatti chiedo sempre Perché Non tutti vogliono Passare i propri settaggi Eh io faccio il video Infatti chiedo Se vuoi passarlo Ti fai sconcentare No Sei schiantato Yes Sei ritrovato una Toyota All'interno Orca E allora capito Io faccio i video Faccio vedere gli amici Settaggio No E Faccio prima la prova Come provo io Poi cambio il settaggio E poi faccio vedere Nel video Come settaggio Già può fare la pista Certo Gray Grandissimo Iscriviti al canale Grandissimo Visto che ti sei iscritto Assolutamente si Allora Gray Greg Sarebbe Vabbè scusami Trova Sul Lidi Scusate Oggi Parlo un po' strano Scusate Il caldo Tra un po' anche Che arriverà il caldone Ragazzi Vedete come parla Marco Che gli va Il popo al cervello Allora cercami Sulla Playstation Come Marco Drums Ok Ho il mondo di LittleBigPlanet E il mio logo Marco Drums Con il drago Questo qui Bellissimo Ok Cercami Quando poi mi arrivai Il corno Ti aggiungo E ti aggiungo Al party Della Play Se poi vuoi parlare Con l'audio Va bene Se no Puoi anche giocare Senza entrare nell'audio Come vuoi tu Ok Gray Allora Quando mi fai sapere Che mi hai mandato La richiesta Amico Sul Playstation Esco E ti faccio Aggiungere Quindi ragazzi Aspettiamo ancora Un attimino Che viene dentro Anche l'amico Gray Girate ancora Un paio di giri Marco Drums Cerca Gray Che poi è gray Gray Credo Se lo pronuncio male Scusami Perché È troppo distante Il computer Non riesco a vedere Dovrei avere gli occhiali Ragazzi oggi fa caldo Da me Da voi Come è Sto sudando Sto sudando Io sono i pantaloncini Manica corta Porca loca Anch'io Trampato Devo mettere i pantaloncini Finestra aperta Dove aprire la finestra anch'io Eh Fa caldo Oggi si Bene 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 Basta l'iscaldamento Abbiamo già dato Un attimo E arrivo Sì Non sto andando male Ragazzi Allora Eh Non mi trovo per niente Ma Come mai non ti trovi Che di solito Voi li trovate subito Non so Che cazzo L'ha fatto quel tempo Possibile 30 39 Faccio Sì Ma Allora Non è male Scusa 39 E caspita Non è che sto Te andando male Greg Greg Mi hai trovato Come PSN Ma dove siete voi Stiate girando Facciamo una prova Di 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 gara Ci va De Pass Chi è Charger in me Emanuele in me Ma perché non riesci a stare in strada O per il tempo E il tempo che te ne frega Ma la macchina Ma la macchina non riesco a trovare una Non ce l'hai la Mitsu O la Subaru La Mitsu è bellissima Eccolo qua che è arrivato Eccoti qua Grandissimo Ma se io Ma se io però Mi hai trovato un cavolo Sopra Qui quello che non do Qui Ma che non gli metto L'altro Mi è arrivato la richiesta Ma per te è andata via Eccolo qua Che mi ha mandato la droga No dai Kevin Allora Vediamo quanto la quale richiesta Ecco Eccolo qua Allora Speed Ok Speed King Allora ricordatevi ragazzi Se volete giocare con noi Scrivetemelo Speed King Eh Cazzarola Non ho segnato Il Il Giusto Aspetta Per metterti dentro Nel Ah c'è Allora Speed Scusami tantissimo Speed Mi iscrivi sul Chat Il Tuo giusto Che ti metto dentro Nel party Speed Com'è che è Perché non mi viene fuori Non ho fatto lo screen Scusa se te lo chiedo Ma Quando ti devo cercare Per andare a mettere Gli amici No aspetta Fammi vedere un attimo Scusa Perché io se ti metto Dentro nel party E vado tra gli amici Ti sto mettendo dentro le party Non vedete il mio video Un attimo raga Allora Non si vede la telecamera Si Sparisce Quando vado dentro Nel Allora Giungi Allora Io penso che sia Online Che me l'ha appena data Adesso l'amicizia Quindi dovrei trovarlo Eh no Invece non serve Lì Fa così Ogni tanto Porta Allora Speed Sì sì Eccolo qua Ecco che ti ho aggiunto Speed Allora Adesso siamo amici Ti ho aggiunto nel party Ok Quindi Quando Vuoi No Entra subito E giochiamo Io avevo detto Che volevo provare Con un'altra macchina Ah sì Con la Ferrari La 4C Ma è una GR3 o un GR4 Voi? GR3 Vero? GR3 Vedete questa Ok Dovrebbe entrare Se non è entrato adesso Vedete voi ragazzi Se entra Speed Si chiama Speed King Dai 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 Così ci arriva Un sacco di gente Riusciamo a fare Delle live Fichissime ragazzi Vedere belle giocate Eh Con il Ferrarino Eh Voglio provare Voglio provare Perché io me l'ho trovato bene Una volta Però Ciao amici Twitch Benvenuti ragazzi Grandissimi Iscrivetevi al canale E Scrivetemi qualcosa In chat Così vi posso salutare In live E se volete giocare con noi Si può anche fare Ragazzi Ok Ci scambiamo lì Allora Ferrarino mi sembra Che ci mette un po' A A carburare Di velocità Dico Oh Mio Dio Che cosa Combinato Allora Aspetta Dove è la retro Dove è la retro Non c'è la retro Ok c'è la retro Che botta Ragazzi Che botta Ragazzi Non me l'aspettavo Fa lo sbirro Fa il carabiniere Che si mette In mezzo La strada Grandissima Ti giuro Che non me l'aspettavo L'ho visto l'ultimo Inflessi Da paura Marco Drums Oh sta entrando Sta entrando Vero Non riesco a trovare Una macchina Non riesci a trovare La macchina Cazzarola Non sta in strada Oggi che ci fa giocare Insieme Settimana scorsa Volevamo giocare Non siamo riusciti Dai faccio il giro Giusto Vediamo Mi impegno Ragazzi C'è un ragazzo nuovo No Uno che fa Contro male Ma è Chi è Dai Manuel E' il mio giro Buono Me l'hai mandato A quel paese Ti bagniamo Ti buttiamo le gomme Arrivo subito Devo andare a aprire Cancello Scusate ragazzi Qua non c'è nessuno Mi hanno suonato Se no mia moglie Sta fuori Poi Mi sgrida Vai Vai giù Non è maluccia Che macchina Quella chiusi La mia Non è maluccia Come è usato Copiare la mia Anche E c'è il copyright Adesso C'è il copyright Oh va che se mi viene ancora adesso Che faccio il giro buono Ti buco le gomme Come a shard Ma c'è entrato Il grandissimo king Perché io Sono andato via Un attimo Sta girando Vieni Ciao amici Twitch benvenuti King sei dentro Si Toretto Bella lì Bella lì C'è anche king Ragazzi Ma dai Manu Davvero Ti ammazzo Ancora mi hai rubato il giro Era buonissimo il giro Dai Guarda che te lo annullo Il tuo 1.38 Ti annullo il 1.38 Ti giuro Te lo posso fare anche con un'altra macchina Si si Te lo annullo Allora vai Ok Giro buono Devo vedere se uso la Ferrari Poi per la gara O la La Vizu Anche Toretto Io non lo vedo Grandissimo Attenzione Toyota contro Ferrarino E dietro? Si Come arriva in quinta Scusa Non è possibile che faccia solo la quinta? Ah Eh? Possibile Cioè prima l'ho fatta da Dio E mi sei venuto contro mano Guarda Guarda Porca miseria Ma hai spinto Ti ho sentito Eeeh Dopo vado a vedere la live La Replay Ci sono le cose Le pile Guarda basta che leggere le mie scritte Già capisce Quali scritte Quali scritte Ah quella dietro Eh non riesco a leggere Dovete fermarti Ma è possibile che la quinta Non ha la sesta marcia La Ferrari Dove è scomparso? Dove? In che senso? È che scomparso Da vero? No Ma come è scomparso? Nel senso Nella Non c'è di più di fianco No No Non va più il motore Ebbè Non mi parte più Non va più avanti Sta squalificato il gioco Non c'è l'attore Non va Non accedere Ok Vai Io non vedo il tempo Vabbè non ci vede il tempo di nessuno Sono qui il primo che lo fa Ma l'abbè non c'è più? Chi? No Io ti vedo ancora dentro Come mai? Io non vedo più Kevin Eh Ti ha buttato fuori Dai rientra che facciamo la gara Kevin Oh Tu ho retto ha fatto il giro Ha battuto Charler Credo Sì La botta Possibile Eh ma il tempo Vabbè dopo lo vediamo nella gara Dai La gara a 5 giri è un'altra cosa Mitico Charler Vediamo tempo Se prendo la stessa macchina La 2 Non va neanche Nella 2 Lo mostro proprio bene Vabbè qua appunto Di essere costante Che vieni Tu che stai usando La mia Com'è? Eh Le cuffie va benissimo Esatto Anche pure veloce Anche la stessa Benissimo Però al tempo Non lo riesce a baffa Eh Niente mi interessa Eh beh dai Non è che Che rimane in gara Esatto Non c'è che non paga un po' da fare D'accordo Adesso mi interessa L'importante non è ultimi Gli ultimi saranno i primi Adesso ti butto fuori Ti butto fuori dalla lobby Giuro Eh no Adesso cazzo mi buti fuori i giri così No Dai dai Mettiti dritto Eh no Eh no Eh no Vai buttando un altro giro Eh merda Che era Era buono E' tanto se sei conco Eh beh Non c'entra niente C'è Chiaro Poi non ti buavate nessuno Ti metti di dritto Allora Era un giro buono quello lì Era un giro buono Ok Vediamo un attimo Riusciamo a fare come il giro di prima Ciao amore mio Eh fa caldino ne amo Vediamo un attimo Perché con il ferrarino io mi sono sempre trovato bene raga Però la Mitsu La Mitsu era Non era niente male Dopo ti scrivo una cosa Sharder Che ho trovato un setup fico di una roba Volevo prima sentire te cosa le pensavi Ok Sembra buono eh Giuro che se becco Mano e contromano A metà Accendo dalla macchina nel gioco Gli do due sberle Ve lo dico Che non ci sono gli omini su Gran Turismo Ma lo faccio Vado dentro nel programma e lo faccio Aspetta eh Non so come tempo Come sono messi Con il ferrarino No Sono molto più veloce Ah ti ho visto eh Hai rischiato la vita Hai rischiato eh Allora no 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 1.45 addirittura Uh che brutta roba Bruttissima roba Allora in realtà il tempo di prima ero 1.37 Ti avevo già sdrumato Però ti sei andato contromano Quindi Fino a prova contraria Sono io il primo Allora Vediamo un attimo Impostazioni Eh certo c'era uno contromano Ce l'hai fatta Allora aspetta un attimo No Toretto 1.86 ha fatto Aspetta Grande Aspetta Bravo Toretto Bravo Toretto Dai 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 Grandissimo Sono entrati sia Manuel Che lo stiamo con loro Che anche Toretto Per vincere Ah dai Ci sta Ma col maggiolino Col maggiolino Vi saluta mia moglie Ciao ragazzi Hai visto Grey Sta giocando con noi adesso Poi c'è decimo Poi c'è Slow E un altro Oggi sono entrati Grey sta giocando adesso Toretto Grandissimo Grey Allora vediamo un attimo Dopo facciamo Uh 36 Grande Bravo Toretto Grande bravo Allora vediamo un attimo Sì sì Anche Manuel è bravo Siamo tutti bravi Anche Sharder Anche Marco Dranz è bravo Anche Marco Dranz Allora io vi volevo dire una cosa ragazzi Se non vince Marco Dranz Siete tutti bannati Ve lo dico C'è le gare si disputano Ma poi deve vincere lo youtuber Giusto o no? Non vengo più nel tuo negozio No no anzi Porta amici Parenti Fai iscrivere anche su Twitch il cane Fai l'account al cane a gatto Mi raccomando Tutti iscritti su Marco Dranz Games Channel E ragazzi Quello vi dico anche voi Che siete lì Se volete fate un bel abbonamento A Marco Dranz Così portiamo avanti Un progetto incredibile Di magliette Ok? Grandissimo Non ho soldi Sei bannato subito Subito bannato Io cerco di fare al massimo Comunque l'ultima S ragazzi bisogna frenare per forza Non si può fare a pieno Per ultimo G è La ultima S Sì Prima del Sì Per forza Ok Ciao 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 Bravo il tuo patato Guarda come sono bravo Grazie Ciao Sì 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 C'è Shard e oggi non riesce a trovarsi con la con la macchina mitico charter anche mia moglie si sta stupendo di te charter no diludendo non esiste di diludendo lo dovevi dire no deludendo si non ti vengo addosso vai tranquillo uso la scia così faccio un bel tempone faccio una bella figura ma che macchina saio anche carla in città la peggio ecco mai dato via e qua hai frenato più di me però lo sapevi che ti venivo in culo e ti sei spostato bravo Kevin scusami Kevin sono io che ti tocco dentro un pelino sono vicino sul tempo quanto ho fatto? 1.38.8 il mio top grazie Kevin della scia ha fatto 1.36.8 perché ha il turbo no Kevin ci siamo impastati era troppo bello far più di un giro eh eh sì ovvio raga ma l'avete tolto il turbo? non lo so ecco perché ha fatto il tempo veloce allora eh sì c'è il nostro perché è una GR3 una GR3 soprattutto il maggiolone non può fare un tempo così beh non lo so bisognerà le chiedere uno dentro eh eh mitico grey stai usando il nos per caso? eh vabbè se io lo chiedi così è normale che ti dice di no vabbè dai stavo giocando per divertirsi non è che sono qua a fare il terzo grado ma non c'è non partire non partire adesso vediamo nella gara che se il nostro non nos e qui in gara si vede chi chi smarella oh scusa Scharder non volevo ah 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 anche il long leg riesco a darti un po' di più eh sarà per la scia forse no dice grande speed bel tempo eh grandissimo dai 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 che adesso corriamo eh facciamo partire la gara ragazzi cosa ne pensate? ci siamo un po' come macchine facciamo partire grey sei pronto? allora per me è pronto per Kevin è pronto se il grande grey dice che è pronto Manuel è pronto beh Scharder per me puoi rifare la lobby no 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 vai tranquillo allora speed qui si gioca per divertirsi quindi ciao dottor master grande ciao dottor master stiamo giocando un botto ma vuoi venire dentro a giocare? ma dottor master stiamo iniziando la ah vai tranquillo vai tranquillo speed adesso ci divertiamo adesso vi sbatto fuori tutti alla prima curva state tranquilli che voi siete davanti pensate di essere no no giochiamo bene ragazzi ok senza sbattere senza la toccatina di gara ci potrebbe anche stare però giochiamo giochiamo tranquilli oh eccolo il grande il Scharder che va fuori e dai dottor master vieni allora facciamo un altro paio di giri ragazzi perché entra anche il mitico dottor master che è un po' di tempo che gli avevo detto che dovevamo giocare insieme non riusciamo mai dai fanno un altro paio di giri eh ogni tanto fate il tempo anche tu grey fai pure un altro paio di giretti così eh così fa tempo a entrare il mitico dottor master ciao amici di twitch benvenuti ragazzi se volete giocare con me iscrivetevi al canale la cosa è fondamentale e se volete portare avanti il progetto di marco drums regalatemi un bel abbonamento grandissimi ragazzi grandi 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 anche il token qualsiasi roba abbonamento i volete il mio iban vai travi passo tutto raga e intanto io sto andando in terza io vorrei giocare ma non ho gran turismo caspita fede e allora io Fede bravissimo mia moglie si vai vai Mori Fede ascolta abbiamo anche due giorni con giochi diversi warzone che partecipa anche moris il mitico moris dei culesh ragazzi grandissimo moris e il fortnite che giocano un po' tutti gioca mio figlio il grande grande boy e gioca il grandissimo moris anche lui dei culesh sempre lui è sempre lui moris è sempre lui e e a gran turismo invece gioca anche il suo pal grandissimo maurizio che è veramente bravo ragazzi però col lavoro è tutto incasinato quindi non riusciamo quasi mai a fare una mega live insieme però come si dice è una figata quindi Fede se vuoi ci possiamo mettere d'accordo sui social quindi se ti va a parte il mio canale youtube che è marco drams games su youtube cercami come marco zanesi eh su ecco bravo 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 dottor master su facebook mi scrivi amore sulla chat marco zanesi federico cercami come marco zanesi su facebook così possiamo anche mettersi d'accordo su messenger eh e facciamo una live un po' diversa eh con call of duty o fortnite io adesso sto portando questi tre giochi ma io in realtà li ho tutti tutti dei one è solo che li porto su youtube ok quindi un po' per sapere tutte le live si bravo se quando votate voi chiedete il gioco che portiamo qua si bravissimo se no siamo su gran turismo che ci divertiamo un sacco gioca anche mia moglie è una bravissima ragali la carla gioca anche mio figlio il grande zane boy però lui è più sui giochi di tipo warzone non è club duty sono brava a farmare mia moglie è bravissima a farmare infatti i milioncini me li fa lei ahahahah allora dottor master ascolta mio amico mio eh io ti avevo già messo nel gruppo di whatsapp ma che cazzo sto a dire scusate ragazzi ti avevo già messo nel gruppo di non capisco più niente oggi ragazzi eh nel gruppo della playstation giusto? se sei nel gruppo della play ok dovresti essere dentro se non sei dentro dimmelo ok così ti aggiungo adesso eh Marco Zanese è scritto raga ehm non avviata no no non avviare che deve entrare un altro ragazzo eccolo qui tenebra eccolo qui dottor master ciao bello mitico ciao 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 ascolta entra pure eh tanto dovresti trovare la partita tra gli amici oh oh di già oh velocissimo dottor master ahahah oh è la prima volta che giochiamo vero? insieme grande dottor master oh mi raccomando fai la pubblicità a Marco Drums Games eh dappertutto cani gatti fai gli account a tutti eh ok mi raccomando ahahah bravo bravo allora oggi ogni cliente devi dirgli ok vi faccio un centesimo di sconto ma dovete iscrivervi davanti a me al canale di Marco Drums Games no no purtroppo io saremo solo eh allora meglio meglio ancora dici oh ragazzi se volete da bere eh ahahah se volete da bere e volete bere stasera dovete iscrivervi al canale di Marco Drums Fox 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 occhio sto facendo il giro ah Fox ok Fox sei come come eh porco dio ok 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 allora io l'unica cosa che richiedo proprio ragazzi è come eh canale mio di di streamer è non dire parolacce e bestemmi e roba del genere perché io sono family friendly e non si dicono no il resto si può dire quello che si vuole è roba politica cose del genere non si può eh infatti infatti Federico scusa scusa è stato Manuel che non lo sapeva eh sì eh sì sono anche i ragazzi che vengono giovani quindi teniamo figli di amici amici amicissimi amici grandi con i figli esatto sì no ma fede cioè sinceramente non è che anch'io le dico eh però sai quando su stream ho deciso proprio per mia scelta personale di non dire parolacce e bestemmi e non parlare di politica niente di di quello che è il mondo capisci tu solo noi siamo qua per divertirci e questo dobbiamo fare anche la competizione da me non 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 va a lunga nel senso va bene va bene arrivare primi fighissimo ma si diverte tra amici se no se no non ha senso proprio tutto una baradà il mio canale è creato per divertirmi non per arrivare primo e chiaramente come lo vedete anche voi a volte sbaglio quindi non è che non mi frega più di tanto chi arriva primo anzi l'importante è divertirsi giusto ragazzi siamo in party tra di noi ci divertiamo prendiamo scherziamo e poi giochiamo e basta chi arriva primo si becca un bel bravo e finisce lì perché sinceramente non c'è né soldi né niente in palio esistono i miti coin amici di twitch che sono la moneta di marco drums games che tra qualche anno esatto del canale che tra qualche anno varranno assolutamente di più dei bitcoin quindi comprate di tutte le valute e cripto valute mondiali quindi comprate un sacco di esatto esatto si si pronostici sondaggi se volete mettere il vostro messaggio in evidenza le scommesse figo 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 si c'è il limite dottor master io ormai ti conosco così e quindi non non ti chiamerò mai fox scusami ma si si oh sicuramente lo so poi vedrò a fox e dico ma che cazzo è fox ma chi è entrato che si chiama fox eh ovo chi caspita è vero eh raga eh dico io parolacce e poi avete una parolacce scusate 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 un po' un po' un po' un po' un po' il mitico charder com'è non si riesce a tenere in mano in mano in strada sta macchina oggi eh oggi fa la berichina Anche il mitico Kevin lo sento Impegnato Io sono felice e contento Ragazzi ho fatto 1,38,8,36 Che è il mio top Il mitico Toretto Ha fatto il tempozzo E lo vedo correre, lo vedo correre Lo vedo bello pimpante Allora poi quando volete Facciamo partire la garetta Vedi tu dottor master che ci hai inviato per ultimo Ti ci vedo bene con un Fanatec Club Sport Anch'io amico mio E' per quello che chiedo sempre di farmi gli abbonamenti Perché qua servono questi qui per comprare il Fanatec Hai ragione, hai ragione Servono un sacco di abbonamenti Dai ragazzi fate pubblicità al mio canale Un sacco di abbonamenti Così riusciamo a comprare il Fanatec Che purtroppo io sono uno streamer giovane Non musicamo E purtroppo Non mi arriva money da niente Devo comprare tutto di tasca No 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 era buono Era buono Ed è dura Mica stavo per battere torrenti Porca dai dai Il prossimo viene meglio Adesso vado io in contromano Quindi dimmi quando il tuo giro è buono A metà così arrivo contromano E adesso che è andato E volevi No no vai tranquillo che arrivo dopo No no Non vado contro il mano Allora dopo devo farmare amici miei di Twitch Un altro bello 800.000 Andiamo a comprare la GT 250 Adesso non mi ricordo neanche domenica Non ho neanche cambiato la marcia Stavo andando in quattro ragazzi Della Ferrari 20 milioni Dopo Quando chiudiamo qui un attimo Prima di chiudere la live di oggi Vado a comprare la Ferrari Da 20 milioni Anzi no sai cosa vi dico La facciamo stasera Stasera è in live Io vi aspetto 8 e mezza 9 No facciamo 9 Alle 9 E la prima cosa che facciamo Andiamo a comprare la Ferrari 250 GTO Da 20 milioni Ok ragazzi Vi voglio vedere tutti Amici del party Stasera se potete Anche magari solo per 10 minuti Vedete vedere la live alle 9 Che compro la macchina da 20 milioni Ok vi aspetto Sì Grandi Dai 20 milioni raga 20 milioni Non mi servirà nulla Ma la voglio comprare Per il turismo Va a vedere come hai fatto i 20 milioni Ti bordo Sto correndo Il bello è che non è che è un Cioè il farming No Emanuele Non è che Partiamo Aspetta 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 Eh no dai Pian pian pianino Si fa tutto Grande fede Tu quando l'avevi preso il G29 Quanto l'avevi in vacanza Allora io l'ho trovato Vabbè io non faccio mai pubblicità Niente a nessuno Però l'avevo trovato su là No Sai quel posto dove si compra la roba Con l'A E L'avevo Aspetta 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 Che fai pubblicità È la stessa piattaforma Ad acquistare No vabbè effettivamente L'ho comprato da Amazon Bravo Bravo come l'hai detto Eh sì Infatti ringrazio Twitch Che mi permette di streamare E di fare queste belle cose E l'ho comprato su Amazon Infatti lo dico sempre Amazon Non so perché oggi ho detto così Vabbè Costa 312 Fanatec Vabbè ma quello lì È quello Quello minchioso Ah io pensavo Quello GT Sport Da 800 Ah scusami Federico Non avevo capito Non avevo capito DD Pro io intendevo Ah sì 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 Eh sì No vabbè se devo cambiare Compro DD Pro Cioè nel senso Aspetta un attimino E Fanatec Interrogatatemi l'ultimo giro Dai ultimo giro Poi partiamo E così Dico l'ultima cosa Che stavo dicendo E Che stavo dicendo Del fanatec No prima di fanatec Boh C29 G29 Ah sì Quanto era il prezzo Quanto era il prezzo Ve l'ha chiesto qualcuno qui Giusto? Ah ok Mi Incasino con le scritte Quello che mi dite voi Allora Praticamente Era Se non ricordo male A parte che è un regalo Di mia moglie Non dovrei neanche sapere il prezzo Però sono andato a vederlo Perché tanto Cioè Amazon è tutto Condiviso Il regalo che mi ha fatto Amore del volante Era Se non vorrei dirti La stupidata 329 Però c'era dentro Anche il cambio Io ho anche il cambio Sono 50 euro Il cambio a parte Ma le quali Te sono più comode Sì Ma sai che bello Che è però col volante Scusami Col cambio manuale Ma che ridicolo proprio Oh Fox Ho visto schiantarti Il volante Sullo stile Della formula 1 Ma così di pro Puoi cambiare il volante Formula 1 E normale Mi sembra O sbaglio Kevin Ma no Ma anche nel G29 Se vuoi sostituisci La corona Si può comprare anche Quello da formula 1 Che il G29 Ma c'è originale Scusami A me per 200 Stavo facendo Il giro di Torex 200 millesimi 2000 Eh beh Dai che adesso Andiamo in In pista Che che è Charger Charger Fai partire Oh che è Cos'ho Toretto Ti sto dietro Che macchina Che macchina Che macchina No Sono uscito Per guardare la macchina Che aveva La Beetle La Fox Viaggia però Sì sì La seconda Anch'io E com'è No davvero È bella Oh Cosa succede qua Oh 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 Buttiamo fuori sto ragazzo subito Dai fai partire Fai partire Che qua ci ha fatto su un casino Non lo so Normalmente lo facciamo Perché così Vabbè ma nelle gr3 Non è che puoi modificare Chissà che cosa Puoi mettere il cambio da corsa E basta Sì beh penso che il cambio da corsa Quanti cavalli ha la tua? Eh 750 La mia ho 800 Ma ecco Il limite di 760 Ti mando lo script Io se piglio ad esempio Se voglio prendere No ma di pipì eh È impossibile prendere Pipì non Cavalli eh Ah ok Io sto parlando di cavalli qui No 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 I cavalli non ci trovo Oh no I pipì Abbiamo fatto il corso di pipì Ma perché l'altra volta L'altra volta ragazzi Volevano sta roba di pipì Volevano sta roba di chiudere i pipì Allora abbiamo fatto così Adesso Capito Ma di bravi eh Mi raccomando Oh Non facciamo cavolate eh Eh Marco Ma io sono fatto un filo Qualcuno già mi ha preso dentro Non so chi Qualcuno mi ha preso dentro Non so chi Ecco Manuel Fai bravo Oh Ho visto qualcosa a scendere Raga ho visto Un bordello Ho visto Non è colpa mia Io non ho fatto niente Marco non scrivo Oh per Dio Che è successo Posto giusto Il momento giusto Perché io non ho fatto niente Ho frenato giusto Ho le prove Da secondo a ultimo Ho le prove Ma non ho fatto niente Ma non ho fatto niente Ho fatto niente Ho fatto niente Ho fatto niente New Beetle Troppo dietro Troppo dietro Una gara pulitissima Una gara pulitissima Davanti una gara pulitissima Oh cacchio Toretto Mi ha passato Grande Mi ha passato bene Oh non ci siamo sportellati Raga Quindi Qua siamo Oh oh Toretto non sbagliare Perché se vedo te che sbagli Vengo fuori anch'io Ti prego Davvero Per imprinting Sai come le papere Uh Toretto va Toretto va Raga Toretto va Raga Primo giro Fatto da paura Secondo giro Fatto da paura Contrario Formula 1 Sì sì Gli avevo risposto Non tutto Però avevo intuito Che diceva Una cosa del genere Perché Si sta Ci stanno le mani da senza mani Le giornate da senza mani Vabbè dai Tanto la prima Ci si diverte così Poi Vedi Le macchine Più o meno Che abbiamo tutti Te ne compri una Tanto bene o male Se troviamo Se troviamo Ah ce l'hai Ciao amici Tu dici Benvenuti Raga Ma ok Ma sì Ma dai Importante Cacchio Toretto viaggia Raga Quindi io ve lo dico Tanta roba Grande Toretto Bravissimo Vedo che pian pianino Vedo che pian pianino Oh non sbaglia niente Non sbaglia Io sono qua a sperare che sbaglia una curva Eh Sono qui a sperare che sbaglia una curva Ciao amici di Twitch Stiamo giocando online Con voi ragazzi Mi avete dato l'iscrizione Mi avete dato un bel abbonamento se volete Vabbè Ci sta E mi avete dato l'id della play Che ci facciamo delle belle partitelle Allora io vi dico che Dopo questa Riavviamo senza le qualifiche Quindi ne facciamo proprio una sparata così Facciamo l'ago maggiore dopo Che possiamo fare anche sparata Però vedi che magari i ragazzi vogliono far due tre giri Magari non facciamo mezz'ora di giri No vabbè ma non c'ho le portuzioni Ma non ho capito Soltanto la categoria GR3 e BF Eh che ho capito Però se tu hai il settaggio Io non ce l'ho Tu mi vedai via E io sto dietro E che il settaggio Eh beh c'è gente che ce l'ha Eh Anche Emanuele ce l'ha Per dire No io non ce l'ho Io l'ho comprata così E la sto usando così Sì Perché No le GR3 non le puoi modificare Le GR3 non si modificano Non puoi Ah sì non puoi Cioè non puoi andare dentro a settare le marce L'altezza Sono i freni Ma io la Ferrari a 400 Adesso non mi ricordo qual è la GR3 Ho fatto anche un video Come settarleva Il doppio di quello che andava prima Eh gli avrei messo il tubo compressore No abbiamo comprato tutto Ma ho fatto anche il settaggio di portanza Altezza dal suolo Tutte quelle cose lì Nella porta delle marce Vabbè si può mettere anche C'è Se facciamo senza cosa dei pipì Senza cosa dei pipì E facciamo Ma se no facciamo senza le GR3 No abbiamo con la macchina normale Vabbè Con la strada Le GR3 è figo Le GR3 è figo Anche perché poi dopo un casino Trovarla Ah si può fare se con la impostazione Sharder con l'impostazione Che senza usare le modifiche Lì sai che c'è quella Impostazione Eh Fai senza più PPP tanto più o meno sono Tanto Tanto L'impostazione L'impostazione Non sarà più occupa Alla fine Eh Ti stuiscono Sulla per la macchina Perché basta Che metti già le gomme morbide Già va fuori Sì Non metti di 60 pipì Senza niente Sì No Non scarche Sulla Fai Anche Anche io faccio tipo sempre gli stessi tempi oppure quando tipo adesso che voglio dire che ho fatto un tempo porca miseria sono andato a sbattere no manuel e pad ma adesso prima il suo retto va bene non è nel party ma dopo penso dopo la gara perché non penso che si metta a scrivere mentre in gara a parte charler che lo fa che mentre in gara primo e riesce a scrivere su twitch penso che abbia il volante automatico lui lui c'è la fase la pastiglia all'inizio o non ci credo amore dammi un bacio solo secondo grande grazie sono vecchio amore mio tu sei vecchia bruttissima bella lì raga dai divertente facciamo un'altra al lago maggiore così cambiamo anche per i ragazzi di twitch che se no si annoia facciamo monza dai monza vai vai di monza ci sta monza è bella bella quella beetle torretto grande grey ma se non sbaglio grey non è nel party vero no sta solo giocando con noi grandissimo grey vedi se sta scritto amore mio fai un po qualcosa stai facendo le foto da vecchia fai vedere lì guarda se c'è scritto qualcosa con 312 fanatech eh come ti fatti come il mio dai dammi una mano grande trans 12.000 per un'ora di gioco avevo fatto tipo 8 miliardi allora dobbiamo uscire tutti raga eh ma basta che esce lui e si chiude la sua stanza si che poi ho pensa che cazzo di sfiga tipo prima no prima ieri mi ha dato il bigliettino del della ricompensa giornaliera si che cosa mi esce l'invito per la ferrara no adesso che l'hanno regalato eh sì ora che ormai eh sì l'hanno dato i bigliettini io c'ho quello della zonda ci avevo che non l'hanno dato e ce l'avevo prima voi l'hanno dato anche quello della zonda metti solo gr3 come limitazioni e che non si può mettere gli assetti eh ok ciao amici di Twitch grandi amici di Twitch fai così metti la gr3 posso immaginare io per fortuna finisco venerdì alle 5 e mezza e riprendo lunedì sempre ormai sono 30 anni che sono in quel posto di lavoro lì quindi mi sono abituato ma cos'è che fai tu? sono metalmeccanico faccio pezzi per aerei, treni, navi macchinari c'è un amico che ci lavora sì sì toni, frese messa a punto di vieto di messa a punto e limite ok ci sto eh no è il gr3 centri di lavoro a controllo numerico tutte cose così acciaio inossidabile ferro ottone sulle barche va ottone o vanno gli acciai al titanio va bene elicotteri ecco per dire te tutte quelle tipologie di pezzi ma ti dico che mi piace un casino sono 30 anni che lo faccio e ci andrò in pensione quindi l'importante è anche l'ambiente di lavoro cioè con i colleghi ma sì io il mio capo è il figlio del mio capo quindi meglio di così è quasi come se è il mio dimmi tutto non mi hai tracciato eh monza anche se non è tutto sto granché monza però vabbè mi piaceva di più un lago maggiore accontentiamo tutti ah beh è uguale io mi venuta ah no vabbè facciamo monza madonna che cosa lago maggiore caspita io l'amo lago maggiore e sardegna sono le uniche piste quelle che amo io sardegna dai vai di sardegna vai di sardegna dai hai fatto quella prima che ti piaceva vabbè fai monza fai monza dai fai monza la prossima volta facciamo sardegna anzi fa una cosa metti metti monza però senza scicane e com'è monza senza scicane è pezzo dritto che all'inizio dopo dopo che fai tiri dritto dopo che passi il traguardo tiri dritto senza fare le curve ci sta facciamo la posizione almeno è più veloce non l'ho mai provata così ti dico la verità non l'ho mai provata così tu pensa che a monza sono andato 5-6 anni di fila a vedere la formula 1 quando ancora erano formula 1 che ti spaccava le orecchie una volta e poi sono andato 4 anni di fila o 5 anni di fila a vedere la superbike bellissimo la superbike ragazzi col biglietto adesso vanno a domanda che cosa hai preso mi è arrivato quando è stamattina l'SSD l'ho preso quello da ah e tu che me lo chiedevi eh sì te ne prevo un paio di giorni fa che ti dicevo che ho fatto anche un video gane 4 tera oh ragazzo ho speso un botto bravo bravo complimenti con lo sconto 689 beh 4 tera sei a posto praticamente per tutta la vita sì ma perché io poi non c'ho sbatti magari c'ho magari i giochi che non gioco da una vita però li tengo lì sì 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 infatti io c'ho un 5 tera di esterno e poi ho preso un tera di ssd perché sinceramente costava troppo e poi però ho dovuto prendere anche un tera sulla Xbox Series X ma c'è una sciocchezza cioè neanche ah una vite due minuti togli la vite metti dentro fa la formatazione e via sì sì eh amore facciamo la pizza sì adesso sono le 6 facciamo ancora questa qui poi ragazzi io devo andare a fare la pizza con la mia mogliettina perché l'impasto abbiamo fatto la pasta stamattina dobbiamo come si dice fare i pizzaioli ecco dobbiamo stendere la pasta e fare tutto di che cosa l'hai preso tu Marco l'ssd la marca kingstone se non mi ricordo male ah no io ho preso c'è samsung o l'altro qual è l'altro figo tu hai preso quello con il dissipatore interno suo maxtor pure che cosa che c'è no il sega il segate ah ok firecuda figo quello quello c'è già il dissipatore incluso no invece il dissipatore l'ho preso a parte che in poche parole dovrebbe essere diciamo quello più più veloce velocità allora sì perché c'è dai 5 7 7 o 7 3 adesso non mi ricordo neanche la velocità anche il mio è tipo quello però c'è scritto che da 7 è certo è fischia credo proprio di sì eh quello è top è già la marca top è comunque quindi già parti con la marca buona ma sì ma sono spese che vanno fatte capisci allora le marche sono marche anche perché a volte paghi la marca a tante altre volte paghi la qualità perché la realtà è quella io volevo andare su Samsung ma Samsung non conviene perché ti costa una vagonata eh oh poi comunque Maxstor, Segate mica fa solo quello eh cioè non mi sono deficienti eh no ma sono tutti ottimi sì 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 perché alla fine esistono già da una vita ma poi sono Epron mica le fanno loro le Epron le comprano già fatte dalle dite che fanno lì Epron loro le assemblano e fanno il pezzettino solo che quello lì che hai preso tu c'è già il dissipatore quindi è già fatto gli altri invece di attaccare lì la pasta termica cioè c'è un po' di lavoro dietro capito poi una pasta termica non sarà mai come quello lì che è già fatto da fabbrica così capisci quindi sinceramente quello è meglio però ho dovuto comprare anche la hard disk della serie 6 un altro 5 tera per la serie 6 un 5 tera per mio figlio giù per la Play 4 Pro eh insomma non lo posso e infatti fate l'abbonamento a Marco Drums Games ragazzi perché deve comprare un sacco di roba deve fare le magliette di Marco Drums Games che poi venderò eh raga ve lo dico già in anteprima però il merchandise di magliette eh eh ti do lì iban così mi fai un bel bonifico va bene adesso ti do lì iban come no mica funziona al contrario eh giovane ti buco le gomme dai attenta che ti buco le gomme no non c'è il freddo no ma qua è una chicane eh la seconda si eh pensavo che non c'era si ma io non vado una sega raga voi andate velocità a 2,70 io quanto andate voi 2,72 verivo c'è molta ragazzi se la macchina va piano praticamente è persa non è che c'è tanto da fare molto penso che il mitico Toretto va più veloce di me eh perché vedevo già prima questa pista qua la so fare anche mia moglie eh con la Ferrari andiamo ah ecco il Mazda ecco il Mazda io quando andavo a vedere le moto ragazzi mi mettevo sotto il ponte vicino alla rete è una cosa impressionante ragazzi il rumore e come passano le moto va è una cosa anche le macchine però le macchine non è che potevi andare in giro dove volevi ci avevi posto invece quando andavo a vedere la superbike potevi girarti in tutto il tracciato era fantastico andiamo ti ricordi quando andavamo a vedere la superbike che figata ah poi andavo anche a Monza a vedere il campionato BMW sì con il mio amico che aveva la BMW M3 figo un amico Davide grande Sharder ho fatto 42,9 io eh caspiterina Sharder no no dai fermo ma nessuno mi ha risposto quanto vi fa voi in velocità no io sono arrivato a 2,80 ah 2,72 io a me ho il fan fa 2,75 eh allora siamo più o meno tutti lì porca loca mi sono distratto un attimo colpa d'alfredo adesso ti dico quanto fa la mia ok il mio BMW no perché sono molto importanti le curve a Monza anche se non fai la scaricata bene perdi un botto ma qui tre quarti di gas che non mi interessa eh raga solo per sapere quanto fanno non è che comunque questo gioco ha una grafica che fa paura ragazzi io non vedo l'ora che fanno eh bello o no mamma che bello la mia ok dai che corriamo 2,70 2,70 2,70 2,75 ok sì siamo tutti lì dai senza la prima variante è molto strana Monza io l'ho sempre fatta così molto strana non frenare sto frenando troppo presto e anche io devo frenare 150 perché frenavo 200 poi mi tocca a tirar lungo la staccata perché ho frenato troppo prima anche adesso ho frenato troppo prima e anche adesso ho frenato un po' aspetta stavo quasi quasi andando nel prato bisogna frenare ancora i dopo 150 si hai ragione non saranno 1 1 41 e 4 ho fatto e 9 scura 1 e 40 torretto grande torretto grande grey mitico qualcuno si è scritto amore mi guarda lì perché c'è ma chi è con la mazza scusate la mazza quale mazza la mazza nera gr3 viaggia la mazza sul dritto soprattutto ma sulle curve è difficile da gestire no io preferisco la mia mitsubishi qua o la suvaru che sono belle stabili anche nella curva perché poi dopo devo diventare armato a fare curva è un casino nella 458 da 458 però non riuscivo a competere prima devo più forte con questa qui grande torretto grande manuel grande marco grande sciale grande fox e grande kevin ciao amici di twitch benvenuti ragazzi stiamo giocando con voi sto giocando con voi amici di twitch grandissimi se volete giocare con noi iscrivetevi al canale e da tutti i vostri mi possiamo giocare insieme adesso finiamo quale e io lo volevo comprare il gr3 lo volevo comprare dici che buono ok adesso lo comprare la anche se non mi servirà niente devo comprare la 450 scusa 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 fox se infatti scurano ma proprio avevo preso la scia ho preso la scia ho detto dai che questa volta di barbotta di culo riesco a fare un tempone invece l'ho tenuta che cavoli ma per fare i tempi vi dovete mettere anche le morbi ciao amici di twitch grandi ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi amore fino a non ti fai vedere moglie stasera gioca anche carla gioca anche mia moglie ragazza stasera voglio fare un sacco di gare e provare tutte le macchine che ho comprato ieri pro e compriamo la ferrari da 20 milioni ok ragazzi io vi aspetto tutti amici di twitch stasera non so se farò l'online perché c'è un botto di roba da fare ma comunque collegatevi che se per caso andiamo a fare l'online ci divertiamo anche stasera ripeto anche a voi che fa grande pierpaolo si si l'ho fatto l'ho fatto a occhio ho fatto anche il ho fatto vedere prima i ragazzi che mi chiedevano sia a tokyo ho fatto vedere la sardegna con la dodge con la fiat dodge perché se lo sapete del gruppo fca psa stellantis o stellaris di come si chiama stellantis mi sembra ciao mandoratore ciao più paolo allora io ti posso essere sincero mi fa schifo non mi piace i muri allora non mi non mi è mai piaciuta la pista di tokyo in tutta la mia vita di gran turismo non mi è proprio mai andata giù quella pista però effettivamente ci metti meno tempo e paga di più quindi per per farmare è top però io ti dico che la dopo lo facciamo dopo lo facciamo amico mio dopo c'è l'amico pierpaolo che è entrato ragazzi vuole che faccio stasera pierpaolo ti faccio una gara tutta per te con la fiat abarth 500 vecchia è ok adesso finito questa gara qui e devo andare a fare la pizza quindi è impossibile che lo facciamo adesso e poi compro anche la ferrari da 20 milioni ragazzi e quindi vi aspetto tutti stasera chi i ferrari no dai non puoi dire una roba del gel io voglio comprare tutte grande pierpaolo grazie grazie voglio comprare tutte le ferrari e tutte le contro che bravo è che me l'hai data tu adesso tra li becchi a mercedes hai preso come è come va il mercedes è meglio rispetto a quello di prima vabbè 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 ci sta non mi ha fatto ritornare quindi ci sta orca miseria mi sa che l'ho preso un po' a schwarzer la prima c'è qual è il mio grandissimo problema che io non mi ricordo vabbè monza me la ricordo però non mi ricordo le marce a cui prenderla no tutte queste cose qui e invece tante altre piste io non mi ricordo proprio la pista quindi devo vedere anche la pista come è fatta giù nel del riquadrino no incredibile non me le ricordo raga dai finita questa che arriviamo tutti fai partire se no poi vi torna troppo tardi per farla pizza ragazzi e la pizza è sacra a casa mia quindi per ritardo a farla chiesa poi via moglie vi banna tutti a chi mi chiamato a te la pizza ok chard lo sai ma poi carlo mi carla vi banna tutti 141 niente di che un attimo ragazzo finisco faccio il giro che vedo vedo qualcuno che mi sta prendendo la scietta cittina scettona però quando esci dalla scia vedo che non è che mi vai via tanto che adesso freno l'ultimo così non mi puoi fregare beh oddio ho fatto un po troppo prima scusa ho fatto un chilometro prima grande che ho sentito mi hai sverniciato ho sentito che mi tiravi via la carrozzeria la vernice dalla carrozzeria ciao amici twitch benvenuti ragazzi grande torretto l'ha abbassato ancora 138 e 3 io sto facendo guerra con fox ragazzi grandissimi dottor master sono dietro di te qui è grandissimo bella lì io no fa il tempone adesso bellissima penso che è troppo bella aspetta che arriviamo un attimo ok arriviamo poi appena arriva il mitico manuel partiamo quanto? quanto hai fatto tu? niente niente di che io ho 1 44 5 38 con una merdina secca vabbè fa niente però il mio migliore è 1 e 49 17 per me raga sono già contento così è che la Lamborghini non si tiene quella cazzo c'è arrivato manuel t'ho visto passare riusciamo? si si vai 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 grande charter amore adesso vini qua stammi di fianco dammi forza è perché la gara e dopo la gara devo vincerla no quello è prova cosa è successo? no niente niente a posto no quando uno dice no cosi vuol dire che ha fatto una cazzata ah che è uscito dalla lobby o ha cambiato ha messo il panda scambiando le gomme stavo ho messo le bagnate e mi sono uscito ah ah ho bagnato guarda che bello che gara con le bagnate sono esistiti si infatti bagnato prima curva ti trovi nel muro ah la mazza c'era anch'io c'era anch'io quella mazza lì amici miei bella la massa Perché sono partito in quarta ma dai Ma no Ma sono partito in quarta ma porca miseria vabbè ultimo bella lì Ma perché mi ha messo in quarta sto deficiente di gioco Sono in scia Qualcuno è uscito fox è uscito ma tirato fuori il camè Sivone fox non uscire di strada che io quando vedo qualcuno Quando uno esce di strada ragazzi io faccio tipo imprinting gli vengo dietro No 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 beccato dentro il coro che inizio pauroso raga incredibile marco dranz ultimo Le parole parole porca miseriaccia Ah la Chevrolet hai preso la Corvette Ma la Corvette è difficile Sì però è difficile a te nella strana Io non riesco Faccio fatica insomma non è che non riesco però Però viaggia perché sei dietro ti hai girato sei già dietro di me Caspita dai Via partita in quarta ma perché sta scemoto è partita in quarta Eh era in quarta Ma non lo so ma perché non deve essere in prima E si è primi E si è primi E si è primi Grande Emanue Eh perché fa così Ha una spinta della Madonna Ehm Ehm Ma è arrivato questa Viva Ha una spinta della Madonna Eh o ha sbagliato qualcosa Sì ho visto una Corvette prima in arba Caspita Ciao amici di Twitch Stiamo gareggiando E poi vi aspetto stasera ore 9 Andiamo a comprare la Ferrari da 220 milioni 250 GT O GT GT forse Che non mi serve a niente ma voglio avere tutte le Ferrari Eh io stasera la compro Stasera la compro Quindi vedrete che domani la cambiano Eh perché 20 milioni comunque anche farmando son tanti eh Cioè parliamoci chiaro Io farm un botto eh Però non è che mi metto a farmare online nel senso Farmò quando gioco per i fiatti miei e poi quando faccio la live Mi metto un po' a farmare anche in live ma poi lo faccio anche le piste Per il gioco online Cioè Se no poi diventa noioso che chi è più viene a vedere una live che è uno farm Capisci Ma chi è chi è? Eh sei a sei secondi amico mio Mi guarda qua Che pena Ah si? Eh arrivo arrivo Eh sono partito in quarta amico mio Cosa ti devo dire Eh raga Toretto però eh Sono partito in quarta Raga Toretto Spinge da dietro per Per passarmi Oh Kevin Oh Kevin Cos'è successo a vita mio? Oh oh Eh dai eh Una botta da Manuel da botta ooooohh ero in pista io cacchio io sono in scia nella mia scia ragazzo sate attenti quando si uscite povero Marko Drums mi avete fatto fori la fiancata a destra e la sinistra adesso sono andate al carrozziere eh che cavolo me la pagate voi? fate l'abbonamento Manuel, Fox fate gli abbonamenti al canale di Marco Drumsgate io non c'entro niente fate l'abbonamento vai Sharder che sei tacanio fai l'abbonamento forse di seconda di prima un po' troppo la cicana forse ho dato giunto un po' troppe marce e ho visto il grande Fox arrivare a culo proprio a culetto che non si può dire culo culo si può dire ah ok fortuna dai ah no ma è una cosa diversa cambi la scia non te la darò mai aspetta che faccio zizzac adesso vado nel prato per far zizzac che si parte oh 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 di cacchina sta cacchina sta cacchetta oh no ma corvette non ci sta proprio va forte ma ma va forte ma non è curva non è tutto sto io volevo comprare si la mercedes infatti perché non c'è con la mercedes scusa non va più veloce la corvette è giusto fare 20 giri con una macchina poi cambiarla per la gara è proprio sta usando quella che è ancora più più lento si ah quindi va meglio la corvette che la beh però in curva no in curva no in curva in curva a meno stabilità la ma la ma la ma la vero io vedo gente con la mercedes incredibile cosa è successo ecco e mi frena e mi frena davanti bravo aspetta che che è sempre manue lui no dai ma no ma ero lì a litigare con fox giuro che ti butto porca miseria non è colpa mia eh l'ho preso io che c'ero di fianco a te no che peccato gara buttata amici di twins Marco D'House è stato sabotato io divo per fox è un muretto dai fox viaggia il mitico grey bravo grey bravo 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 grey stavamo in subisce non me corre dai fox devi vincere questa volta è un'altra le uscite del bordo perché so cazzo di dc essere di tanto mi dimentico e premo le grille tappalda guarda mi giro un po' il mio oh nasta eh io ti vedo io non uso niente non so se so se sono con le carte da ma perché mi aiuto a più in sostanza e poi le basso ciao amici di twitch benvenuti ragazzi siamo alla vincente gara con voi con voi amici di twitch mi raccomando iscrivetevi al canale se volete vedere delle gare fighissime a parte questa che ho canato l'ultima curva dimmi dimmi cavi 272 in dritto dici 272 no cosa è successo non puoi usare la chat perché charder è un problema di nut mi ha scritto dai all'ultimo giro che era secondo però io sono un terzo bella lì raga no no come si è girato no aspetta dai ma no manuel dai cazzarola è proprio crashato tutto vabbè dai a me è crashato tutto raga a me è crashato tutto crashato tutto va bene dai ragazzi ho vinto Marco Dranz perché sono io il capo del canale vico io ho vinto io Marta bella charder ti è crashato tutto si è unito vediamo se c'è va bene dai ragazzi è stato divertente l'importante è che ci divertiamo quando facciamo queste mega 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 giocate insieme io vi aspetto stasera alle ore 21 bravo bravo dai fatto bene fatto bene è stato bravo io vi saluto ragazzi a tutti grazie per essere stati con me grazie per aver fatto una bella live ciao a tutti vi aspetto alle ore 21 buona Pasqua e vi aspetto alle ore 21 che scartiamo insieme la Ferrari 250 GT ciao a tutti a stasera ciao amici miei buonanotte ciao 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 ciao